Buonasera. Grazie. Buona, buona, no. Prova. Sì. Abbassate un po'. Canto. Buonasera. Signori consiglieri, per cortesia, accomodatevi. Bene, signori, accomodatevi per cortesia. Iniziamo i lavori. Bene, chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, c'è il numero legale, mi dice il segretario. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta. Consigliere Bevilacqua, Consigliere Perrone e Consigliere Lopipero. Risultano assenti i consiglieri Mauro Tavella, Emanuele Loperfido, Vito Palmisano, Gianni Franchin e Franco Dalmas. Non ho comunicazione di ritardi. Comunico che essenzia l'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Chiedo al signor Sindaco se ha delle comunicazioni. Prego, signor Sindaco. Ho una serie di comunicazioni e di informazioni che desidero condividere con voi. La prima comunicazione riguarda un mio decreto, il numero 142 in data 14 maggio 2014, con cui ho provveduto a nominare la dottoressa Piccin Patrizia come sindaco effettivo e presidente del Consiglio Sindacale della società GSM e il dottor Silvano Brusadin come sindaco supplente della stessa società. Il 14 maggio 2014, nell'assemblea della GSM, in cui veniva presentato il bilancio 2013, quindi la finalizzazione del mandato del Consiglio di amministrazione, si è provveduto altresì a cambiare la governance della GSM. La GSM è oggi un amministratore unico, quindi ci siamo avvalsi della facoltà dello statuto della società che prevedeva già da tempo il fatto di avere un amministratore unico. L'amministratore unico della società è il dottor Walter Furlan. A lui è stato dato un mandato di un anno che consente alla società sostanzialmente di raggiungere due obiettivi. Uno, finalizzare l'avvio del centro cosiddetto intermodale passeggeri, cioè la nuova stazione del Corriere, detto in termini più semplici. Questo sarà, voi sapete, una gestione data alla GSM. Sono in corso tutti i passaggi che vedono evidentemente come parte attiva anche la provincia, nella definizione di questo canone di percorso che è alla fine la modalità con cui il centro intermodale può vivere. Quindi questo è un primo punto. La GSM avrà questo servizio e sta espletando e definendo le modalità con cui riuscire a derogarlo. L'altro è durante quest'anno, proprio seguendo le indicazioni che abbiamo già condiviso con voi, un cambiamento nella governance della società e sarà possibile quindi la presenza di partner esterni, anche in base alle linee guida che più volte sono state indicate a livello nazionale, sarà qualche cosa da investigare a fondo. Quindi che cosa si è voluto fare? Si è voluto determinare una situazione per cui da qui a un anno, quando potenzialmente questa nuova governance potrà essere alla guida della società, nessun vincolo di nessun tipo si voleva aggiungere per consentire questa trasformazione della GSM. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione riguarda un prelievo dal fondo di riserva di 30.000 euro. Questa è con delibera 96 del 2014 del 23 maggio del 2014. I 30.000 euro che abbiamo prelevato dal fondo di riserva sono andati di fatto a rimpinguare quanto era già stato allocato per la Dunata degli Alpini. voi tutti avete partecipato alla Dunata che è stata una grande festa per tutta la città e con la gioia relativa abbiamo avuto sicuramente un boom di presenze, era stato ipotizzato di un certo tipo, ma sicuramente siamo andati oltre quei limiti e saremmo più precisi nei prossimi giorni, sta di fatto che la parte della struttura comunale diciamo ha avuto alcuni punti di particolare stress. Li cito in ordine inverso rispetto alla nota che mi è stata fatta. da parte della pulizia urbana, voi sapete, è stato anche riportato sui giornali, abbiamo avuto diciamo 5 infortuni sul lavoro di varia natura nel fronteggiare situazioni di commercio abusivo piuttosto che altre effettivamente di incidenti di lavoro abbiamo stabilito di avere un presidio maggiore qui nel Palazzo Comunale che abbiamo dopo, devo essere sincero, un successo inaspettato dell'iniziativa di tenere aperte le porte della logge del Consiglio Comunale, del mio ufficio, insomma degli uffici che stanno più o meno su questo piano abbiamo deciso praticamente di far sì che questa struttura rimanesse 24 ore su 24 o comunque fosse sincrono a tutto quello che succedeva nel centro della città con le altre manifestazioni della donata degli alpini, quindi ha richiesto del personale in più e di conseguenza abbiamo aggiunto del personale in più come ore straordinarie nel call center che rispondeva alle chiamate come nel personale tecnico e informatico che alla fine nell'ambito dei servizi generali del Comune garantiva che tutto funzionasse correttamente quindi il tutto ha portato a questa variazione, a questo prelievo dal fondo di riserva di 30.000 euro che è stato destinato a questo capitolo specifico di spesa proprio per garantire che questi straordinari in più che sono stati necessari nello svolgimento della manifestazione potessero essere coperti l'ultima nota che volevo condividere con voi è alla fine per completezza visto che l'abbiamo sempre commentato nei nostri consigli comunali la vicenda Electrolux è la vicenda di Del Standard vi è penso abbondantemente nota per quanto ho riportato già sulla stampa quindi esattamente il lunedì dopo la donata degli alpini è cominciata l'ultima fase della trattativa Electrolux che ha portato a chiudere la trattativa stessa con i successivi referendum nei vari stabilimenti referendum nel senso di accettazione dell'accordo lo dico focalizzandomi su Porcia è previsto un investimento di 32 milioni di euro che non è una cifra enorme comunque è suddivisa su nuovi prodotti come finalmente sulla parte degli impianti cosiddetti tecnologici della fabbrica è in atto un interessante definizione di un accordo che prevede l'assorbimento di 150 persone di 150 esuberi con la presenza nel capannoni disponibili a Porcia di una terza parte di un'azienda che provvederà all'utilizzo di queste persone e una parte diciamo dell'eccedenza lavorativa voi sapete questo era uno dei parametri utilizzati fin dall'inizio uno degli strumenti usati fin dall'inizio i contratti di solidarietà ecco è stata una partita come sapete in cui tutti hanno veramente esercitato fino in fondo la loro presenza la loro costanza perché è stata lunga il governo alla fine è riuscito a chiudere e a partecipare attivamente alla decontribuzione di una parte dei famosi due euro che servivano per il costo complessivo del lavoro la considerazione è abbiamo tre anni quindi fino al 2017 di tregua possiamo definirla così quindi per il nostro territorio è una notizia molto positiva dall'altra parte abbiamo anche l'obbligo tutti e la classe politica noi per primi di stimolare con che formule andremo comunque a creare la continuità dopo il 2017 Electrolux non è Electrolux però la identificazione del segmento strategico in cui noi vorremmo indirizzare i nostri sforzi a questo punto è un obbligo certo che viste i presupposti da cui si era partiti il risultato è stato accettato con un plebiscito diciamo all'interno degli stabilimenti quindi non solo possibiamo anche gli altri per cui l'80% delle persone che hanno partecipato all'assemblea ha dato assenso al patto stesso quindi per l'ideal standard l'ideal standard sapete sono stati dati altri sei mesi di cassa integrazione la situazione dei sei mesi è stata lunga dibattuta per consentire di capire fino in fondo se questa ipotesi di una creazione di una vera e propria cooperativa che prenda una parte della produzione degli stabilimenti dell'ideal standard sia realizzabile quindi anche qui abbiamo un bonus molto più basso diciamolo chiaro molto più limitato ma comunque positivo perché visto che all'inizio quando in un'industriale l'incontro è partito l'unico elemento sul tavolo era la mobilità i 75 giorni che la caratterizzano avere questo periodo di tempo in cui lavorare certo intensamente per capire l'esatta verificabilità e sostenibilità di una situazione di una formula di questo tipo ci deve rendere da un lato responsabili di seguire bene quello che succederà ma anche contenti che finalmente sia stato dato questa apertura per consentire la verifica fino in fondo di un'ipotesi che inizialmente sembrava remonta quindi è stata una settimana quella esattamente dopo gli alpini importante perché le notizie su questo fronte così delicato che caratterizza il nostro territorio sono stati due notizie positive io avrei finito a mia parte grazie signor sindaco bene vedo qualcuno iscritto a parlare prego consigliere Pasut grazie presidente solo per volevo chiedere un chiarimento al signor sindaco riguardo alla sua prima dichiarazione su GSM premesso che non ho niente contro Valte Furlan che è anche persona amica che stimo e che ho avuto modo di apprezzare anche il suo lavoro solo che non mi sono piaciuti un po' i titoli della stampa con Continuopoli allora volevo capire da lei signor sindaco riguardo all'apertura che lei aveva dato su i curriculum aperti poi mi pare lei abbia anche dichiarato che non ne sono arrivati che quelli che c'erano avevano pur avendo una valenza non si sono più resi disponibili volevo un chiarimento da lei su questo passaggio grazie le ricordo che io per quanto riguarda la presidenza della GSM non non è un mio decreto io posso proporre come azionista certo importante della società posso proporre delle candidature le candidature sono maturate con attraverso la solita richiesta di curriculum che noi abbiamo operato nel nostro sito evidenziando che quindi poi le candidature stesse sarebbero state discusse in GSM ci sono arrivati cinque curriculum compreso quello di Varte Furlan uno di questi si è ritirato per successivi problemi di lavoro e di tipo personale gli altri che sono come sempre disponibili non avevano le caratteristiche di tipo di esperienza lavorativa e di profilo professionale tali da poter far fronte ad un almeno da parte mia ad una candidatura per quel tipo di posto per cui alla fine proprio avvalendomi della ricerca esclusione comparazione nell'assemblea della GSM il candidato che io ho proposto è stato il dottor Varte Furlan grazie signor sindaco consigliere pedicini prego grazie volevo fare giusto un breve intervento per quanto riguarda la questione della GSM volevo sottolineare il fatto che nonostante quello che si possa pensare io ho condiviso questa scelta perché in un momento di transizione era importante non nominare un nuovo amministratore che doveva cominciare da capo e capire un po' era meglio andare sull'esperienza su una persona che conosce bene in modo profondo anche la situazione l'importante è che in questo anno si arrivi effettivamente all'obiettivo che ci siamo posti allora effettivamente il lavoro che può svolgere Walter Furlan è sicuramente un lavoro positivo perché ha gli strumenti per portarci a risultati che tutti auspichiamo che abbiamo già detto più volte vorrei approfittare anche di questo molto brevemente per invitare l'amministrazione a fare una riflessione un po' su tutte le partecipate perché effettivamente a parte che lo prevede già una legge la legge Tremonti che dice di verificare ogni anno se è utile o meno mantenere in vita le partecipate bisogna le partecipazioni bisogna un po' a mio avviso anche qui fare una riflessione lo diciamo ogni bilancio ma forse anche sulle altre partecipate del comune forse sarebbe opportuno riflettere se effettivamente è utile ancora mantenere ma utile non per il comune che tanto utili non è che ne porti a casa più di tanto tranne la GSM per quanto riguarda gli alpini vorrei associarmi anch'io perché ho capito e ho visto lo sforzo che ha fatto l'amministrazione comunale ed è stata presa veramente un po' di contropiede perché effettivamente è stato di gran lunga superiore anche a quelle che erano le aspettative quindi bisogna fare i complimenti a tutti coloro che hanno lavorato e che si sono dati da fare perché effettivamente c'è stata un come posso dire una partecipazione corale di tutta la città dietro questo quindi sono bazzeccole quelle che possono essere delle spese in più che si vanno a verificare rispetto a un budget che era stato dato in modo preventivo ultima questione l'electrolux e la anche qui sicuramente lei signor sindaco ha avuto la solidarietà e da parte di tutto il consiglio comunale fin dall'inizio in questa vicenda tutta la città si è espressa in questo modo l'importante è che anche questo non sia solo un rinviare il problema quindi nei prossimi tre anni dobbiamo fare in modo tale che questa città questo territorio questa regione esca da questa situazione e imbocchi una strada della ripresa ma perché si possa aggiungere effettivamente una ripresa abbiamo bisogno e qui con molta veramente tra virgolette di un piano Marshall abbiamo bisogno di grandi investimenti abbiamo bisogno di sapere prima di tutto dove vogliamo andare quindi avere un piano sapere basta fare analisi bisogna cominciare ad avere progetti sapere dove vogliamo portare il nostro territorio e su quegli obiettivi dobbiamo lavorare tutti uniti perché se fra tre anni ci ritroviamo ancora una volta nella situazione di oggi o abbiamo perso ancora l'occasione sicuramente è un problema che verrà solo rinviato ma che si riproporrà a noi tutti grazie grazie consigliere consigliere Giannelli ma pare che l'architetto Pedicini mi abbia letto nella testa io infatti ho detto le stesse cose che volevo dire per quanto riguarda la GSM credo anch'io che non andava cambiato in questo momento dedicato e poi insomma squadra che vince non si cambia si dice in caso nel settore anche per gli alpini complimenti se è andato tutto bene eccetera volevo solo sapere se è possibile quanti soldi abbiamo speso in tutto perché non so se è mai stato detto non che sia di importanza ma così per capire un evento di tale portata è un impegno dell'amministrazione in questo senso beh sapere quanto costa il ritorno poi non mi interessa anche perché non credo che il ritorno sia immediato però sarebbe così credo che il Consiglio Comunale potrebbe saperlo ultima cosa sull'Electrolux voi sapete bene che io sono sempre stato pessimista continuo ad esserlo perché la società proprietaria non fa programmi al di là dei sei mesi mi meraviglio che abbiano deciso di investire queste cifre sono felice e contento perché io ho sempre detto che all'Electrolux e agli operai e non solo agli operai andava data tutta la nostra solidarietà come uomini perché è un momento difficilissimo sono convinto che non c'è speranza perché l'Electrolux la proprietà non ha interessi neanche in Europa cioè se oggi svilupperanno qualcosa a medio e lungo raggio sarà di sicuro non in Europa che è un continente destinato a fare altro che non la produzione di elettrodomestici o di beni di largo consumo volevo dire sempre riallacciandomi a quello che ha accennato il consigliere Pedicini che è severo che in questi tre anni dobbiamo fare dei ragionamenti tenete presente che fatti concreti devono essere orientati ad esempio nell'energia e in questo senso credo che un'azienda come l'Electrolux che non abbia mai pensato assieme ai comparti industriali all'interno dei quali sta ad esempio a cercare di pagare meno l'energia ma non nel brocheraggio classico della vendita dell'energia ma ad esempio facendosi delle centrali che siano biomassa che siano termovalorizzatori comunque in questo caso sappiate che da dei dati che io conosco una centrale biomassa per i 31 mega che consuma l'elettroli di portia incidono mezzo euro rispetto a quei due di cui parlava prima quindi non sono poche cose vi suggerisco di prospettare in un progetto industriale per i prossimi tre anni di tenere presente che nel campo del consumo dell'energia possiamo fare qualcosa quindi fare proposte sempre concrete va bene la presenza del sindaco assieme agli operai va tutto bene però dico dobbiamo fare delle proposte concrete e spero che l'amministrazione comunale in questo senso sia ad opere grazie consigliere consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente sindaco relativamente partirei subito dagli alpini perché anche io voglio complimentarmi con tutto il comitato con l'organizzazione tutta è stata una bella festa ci siamo divertiti tutti credo tutti l'abbiamo vissuta quindi ecco è stato un bel evento per la città importante non avevamo dubbi qualche piccola qualche piccola più che imperfezione forse qualche maggior accorgimento poteva esserci sto preparando un'interrogazione ma giusto per capire non vuole essere una volontà critica proprio per capire come sono state gestite alcune cose perché mi sono giunte alcune voci e appunto volevo capire se l'amministrazione ha avuto sentore anche di questo ma parliamo di diciamo di quisquiglie posso dire che quindi non vanno sicuramente a offuscare l'importanza dell'avvenimento e l'esito assolutamente positivo che è stato per quanto riguarda la sua prima la sua prima invece comunicazione relativa a GSM ecco io avevo richiesto dopo la commissione capigruppo se era possibile avere copia dei curriculum pervenuti anche per quanto riguarda il collegio sindacale perché volevo capire un attimo come erano avvenute le indicazioni mentre mentre su quello che è il mandato da dare a un amministratore quindi in questo caso poi c'era anche il cambio di governance si passava da un consiglio di amministrazione all'amministratore unico quindi in un priori di transizione quindi possiamo anche posso anche relativamente condividere quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto relativamente per quanto riguarda il collegio sindacale mi viene più difficile da capire quanto il collegio sindacale è più un organo tecnico un organo che a mio modo di vedere non a mio modo di vedere lo dice la legge ha delle competenze specifiche tecniche e mi sembra quindi difficile che l'amministrazione possa dare un mandato a un collegio sindacale perché glielo dà la legge non può certo dirglielo al sindaco dai glielo al sindaco poi mancherebbe altro allora a mio modo di vedere dovrebbe proprio rifarsi a quelle che sono le competenze specifiche di chi si propone per quell'incarico quindi permesso che tutti i professionisti i due professionisti che lei ha citato li conosco quindi sono assolutamente validi i professionisti però vorrei capire chi sono gli altri che hanno eventualmente presato curriculum per verificare se il mandato di amministrazione è stato veramente affidato alle persone con maggiori requisiti o meno ecco chiedevo questo poi non posso che rallegrarmi in conclusione sulle altre comunicazioni sull'estero della vicenda Electrolux in particolare grazie grazie consigliere Tomasello prego scusate grazie signor sindaco grazie presidente per avermi dato la parola io volevo iniziare per quanto riguarda la sua comunicazione di Electrolux tanto per come sempre lei sempre in modo sempre puntuale ci ha informato sulla sulla vicenda che finita si è conclusa in modo favorevole con l'accordo sottoscritto ed anche approvato approvato mi sembra in sede di referendum dai lavoratori stessi è stato un accordo che si è concluso dopo un'esternumante trattativa che ha interessato tutti i quattro gli stabilimenti compreso quello di Porcia una cosa che inizialmente non sembrava fosse fosse possibile vuol dire io ritengo che su Porcia Electrolux ci crede ancora vediamo che è un accordo come ha detto lei prima signor sindaco dove può presentare delle incognite ci possono essere anche dei sacrifici a carico dei lavoratori ma ci sono anche delle scommesse delle speranze mi hai detto prima un investimento è previsto un investimento di 32 milioni quindi che servirà appunto al rilancio della produzione della fabbrica di Porcia e quindi per tre anni cioè fino alla scadezza del 2017 non ci saranno questo è anche importante perché darà sicuramente una certa tranquillità ai lavoratori e anche alla stessa nostra città non ci saranno né licenziamenti né tagli mi sembra di aver capito neanche tagli retributivi e poi anche il personale in esubro mi sembra fino al 2017 quello da gestire è di 600 persone non di 1.200 quindi mi sembra anche questo un ottimo risultato quindi che verranno sicuramente utilizzati degli strumenti molto più soft e più morbidi per cercare quanto meno di non far rendere così grave gli eventuali esiti gli eventuali eventualmente licenziamenti vediamo che in questa in questa trattativa secondo noi lo stabilimento di Porcia è diventato il luogo simbolo di questa di questa lotta dove i dipendenti dell'Eletrolux hanno lottato hanno lottato hanno fatto in modo che una cittadina periferica come quella di Porcia fosse sotto i riflettori nazionali ed hanno fatto in modo e questo secondo me è stato uno dei modi per cui la fabbrica la nostra fabbrica si è salvata però hanno avuto un ruolo importante il giorno di dirlo questo anche le istituzioni le quali non hanno mai voluto dividere mi sembra sia specialmente la regione ma anche lei signor sindaco in diversi tronconi delle trattative la trattativa doveva essere una trattativa unica e questa è stata portata a termine è giusto riconoscere alla nostra regione alla presidente Seracchiani e anche al vicepresidente Bolzonello che molto è stato fatto per ottenere questo risultato adottando tutta una serie di misure anticipate per aiutare le imprese ad alzare anche il livello della competitività l'alleggerimento della pressione fiscale e del peso della burocrazia tutte misure che sono servite insomma anche per arrivare alla conclusione della trattativa poi io penso un'altra cosa vorrei rifarmi quello che diceva prima il consigliere Giannelli che diceva che sicuramente ci saranno degli investimenti sicuramente il governo darà una mano sicuramente ci sarà lo Stato il governo non si è dimenticato di Porcia e non si dimentica di Porcia anche perché la presenza del ministro Poletti sia Porcia di venerdì è stato un importante segnale di fiducia e di attenzione per il nostro territorio infine volevo far presente qui da questo consiglio noi abbiamo sempre auspicato che il fronte è comune e il fronte è comune che c'è stato con tutti i livelli istituzionali partendo dal comune da lei signor sindaco sempre stato presente dalla regione e poi ultimamente anche dal governo insomma questa secondo noi è stata la strategia vincente poi per quanto riguarda GSM noi il sindaco ha fatto presumo un suo ragionamento che noi approviamo riteniamo appunto che la società è una società come ci ha detto prima è in profonda trasformazione ci sarà il cambiamento della governance è necessario che per governare questo processo è giusto anche secondo noi che fossero nominate le persone con una certa esperienza sui meccanismi che siano in grado di poi di facilitare il raggiungimento degli obiettivi che ci andremo a prefiggere poi con le nostre scelte quindi su questo signor sindaco ha tutto il nostro appoggio poi per quanto riguarda gli alpini ringrazio appunto per tutto quello che è stato fatto per lo sforzo un ringraziamento particolare va all'amministrazione e va da parte nostra a tutto il COA che ci ha messo appunto tutto l'impegno possibile grazie grazie consigliere Tomasello consigliere Freschi prego grazie presidente grazie signor sindaco rispondo brevemente a quanto lei ci ha comunicato perché mi pare che siano state tre comunicazioni estremamente importanti e che trovano anche un vasto consenso all'interno di questo consiglio per quanto riguarda il GSM sono particolarmente soddisfatto del fatto che si è arrivati all'amministratore unico cosa che già lo scorso anno avevo sottolineato e auspicato il fatto che ci sia un mandato di un anno a colui il quale ha amministrato in questi anni per un periodo di transizione penso che sia la scelta più corretta e più giusta in modo tale da non esporre come ha già detto anche qualcun altro prima l'azienda ad un momento di passaggio in una situazione di non conoscenza dei meccanismi aziendali per cui positivo questo per quanto riguarda il discorso del fondo di riserva penso che attingere al fondo di riserva per quanto è stato fatto in occasione della manifestazione degli alpini sia stata una cosa più che corretta e giusta qui corre l'obbligo di ringraziare tutto il personale comunale che si è dato da fare per queste giornate sono state giornate importanti indimenticabili ci possono essere state anche delle difficoltà manifestate anche da quanto lei ci ha detto riguardo la polizia municipale che ha avuto anche purtroppo qualche problema per cui si è dovuti ricorrere poi ad un maggior aiuto ecco un'altra cosa che mi pare giusto sottolineare e che è stata una intuizione ottima è stata quella di tenere aperto la casa comunale io ho passato alcune ore qui in sala consigliare per puro caso perché avevo accompagnato delle persone e posso dire che c'è stato un andirivieni continuo non solo di visitatori extra città ma di cittadini pordenonesi e anche di molti giovani è stato un modo semplice corretto e simpatico anche per approcciarsi a quelle che sono le istituzioni per cui signor sindaco io le invito anche in altre circostanze a tenere aperta la casa che di tutti la casa comunale e ultima cosa per quanto riguarda le vicende Electrolux ed Ideal Standard ecco tutti penso siamo contenti che ci sia stata una soluzione che per certi aspetti potrebbe diventare anche un esempio e una soluzione che ha delle ricadute anche per altre per altre aziende per altri stabilimenti certamente si è arrivati a questo perché è stato fatto un grosso lavoro di squadra se non fosse stato fatto un grosso lavoro di squadra questi risultati non si sarebbero ottenuti e in principal modo mi sento di dire che il grande lavoro a parte la presenza delle istituzioni locali come sono stati i comuni e lei signor sindaco in prima linea ma penso che vada atto che il fatto che quattro regioni politicamente diverse di colorazioni completamente diverse tra loro sono riuscite a mettersi insieme e a parlare un unico linguaggio questo è il modo con cui si portano a casa i risultati penso che questo sia un esempio che va sottolineato e va imitato l'unica preoccupazione che mi rimane è il discorso ideal standard ancora io non intravedo una soluzione robusta ho l'impressione che questa sia una una soluzione che in qualche modo deve essere puntellata deve essere aiutata deve essere seguita con estrema attenzione e mi rivolgo a lei signor sindaco che è un uomo di impresa che viene dall'impresa di stare molto attento di stare molto vicino a questo tipo di operazione perché è un'operazione estremamente delicata e come ho detto altre volte che non ha una semplice ricaduta sui numeri che noi vediamo ma che la ricaduta è molto più vasta su famiglie e su lavoratori che lavorano come indotto attorno a questa azienda e che a questa azienda a queste aziende direi e che sono più difficilmente rappresentati ecco per cui l'invito che le faccio è quello di seguire con l'attenzione che le sappiamo essere propria quello che avverrà nelle prossime settimane grazie grazie consigliere consigliere bevi l'acqua grazie presidente e anche noi facciamo due osservazioni su ogni punto di comunicazione date dal sindaco su GSM non possiamo che confermare di essere soddisfatti anche perché ribadiamo e sottolineiamo che si tratta di un amministratore unico per quanto riguarda invece la riuscita della donata degli alpini va un sentito grazie al Pordenonese e tutto il nostro territorio per la riuscita della donata degli alpini e ancora grazie al personale tutto che ha lavorato sempre dietro le quinte dimostrando una grande serietà e senso del dovere per quanto riguarda l'ideal standard non posso che associarmi e condividere in toto quanto detto dal consigliere Freschi l'ultimo punto va sull'Electrux è con estrema soddisfazione che abbiamo appreso la notizia del SIS dell'accordo dell'Electrux va riconosciuto la grande forza senso civico e senso di responsabilità dei lavoratori e la capacità del nostro territorio anche politica di fare quadra l'avvertenza l'Electrux ha creato un nuovo uso degli ammortizzatori sociali spingendo suoi contratti di solidarietà vedremo i risultati dopo certo è che bisogna c'è la necessità di continuare a lottare per evitare appunto che lo spettro della chiusura al 31 dicembre 2017 non si ripresenti e allora è necessario mettersi a lavorare oggi subito affinché si pongano e si attuino le politiche le condizioni per tornare ad essere competitivi sarà quindi necessario spingere su quel processo di politiche attive che si era iniziato tempo addietro con la tanto famigerata riforma Fornero anche e non solo sotto il profilo della formazione professionale basta grazie grazie consigliere consigliere del Ben prego grazie io ho sentito della buona conclusione per ora della vicenda Zanussi Electrolux ho sentito anche che si sono citate le istituzioni per quello che è stato fatto ma io penso che comunque il nostro cuore di Pordenonesi era insieme agli operai che presidiavano la Zanussi e presidiavano l'Ida Standard allora su questo modo siamo un po' per dire vicini e orgogliosi che tutti sono resi conto che il lavoro è quello che fa andare avanti che da futuro alla nostra società tutta allora grazie e bene benvenuto le istituzioni che hanno fatto il loro però un grande sostegno solidarietà grazie a quelli che hanno magari lasciato anche la famiglia per un po' che hanno preso un po' di freddo per hanno anche fermato il traffico why not per dire quanto sia importante il diritto al lavoro il diritto a mantenere le fabbriche che ci siamo costruiti perché se ci deve essere futuro questo passa attraverso il lavoro e la nostra gente era lì per chiedere lavoro grazie consigliere bene non vedo nessun altro iscritto abbiamo concluso gli interventi comunico al consiglio che durante la conferenza del presidente dei gruppi consigliari si è deliberato quest'ordine di lavori si impiegherà un'ora per le interrogazioni fino ad esaurimento dopodiché si esamineranno le deliberazioni 18 19 20 21 che la cui presentazione e discussione sarà unica ovviamente le dichiarazioni di voto e votazione saranno ovviamente separate poi seguire si affronteranno le proposte di deliberazione numero 22 23 e poi si riprenderà la trattazione della mozione quella la numero 12 2012 relativa alla riforma delle circoscrizioni termine seduta fissato per le 22 30 salvo prosecuzione dei lavori fino ad esaurimento delle deliberazioni sono le 19 e 13 bene iniziamo l'ora dedicata all'interrogazione interrogazione numero 5 del 2014 interrogazione costi visita Cecil Chieng a Pordenone permesso che la visita porterà numerosi disagi alla cittadinanza e ai commercianti del centro di Pordenone già ampiamente penalizzati rispetto a quelli fuori vi dovranno essere misure di sicurezza per trattare tale personalità e l'ordine pubblico considerato che tale visita non produrrà alcun beneficio di tipo economico sul territorio interrogo l'amministrazione sull'effettivo costo che i cittadini Pordenone dovranno pagare per tale visita sia diretti che indiretti firmato Riccardo Piccinato Gruppo Lega Nord la parola al sindaco prego al solito la risposta sarà articolata in due parti la prima meramente numerica e elenco quello che abbiamo verificato allora primo costo è stato nella consegna del volume Pordenone una città quale omaggio al ministro il volume non è in vendita ma possiamo pensare che abbia un valore all'incirca di 35 euro circa il personale il personale impiegato sono stati due operai per otto ore per montaggio e rimontaggio a redi della sala consigliare voi avete visto come la sala era stata attrezzata per l'evento per un valore di circa 100 euro tre persone di segreteria per quasi dieci ore che ha portato ad un montante di 175 euro un responsabile insomma per l'organizzazione per circa quattro ore 81 euro ed un addetto stampa è commesso per complessive otto ore circa 114 euro quindi le riturbuzioni totali sono di 470 euro ai quali vanno sommati gli oneri riflessi che ammontano a circa 160 euro cioè circa il 34% e che portano ad una spesa complessiva di 629 virgola 80 euro è stato inoltre leggo testualmente impiegato personale della polizia municipale che in considerazione delle modalità di svolgimento della visita e delle manifestazioni collaterali alla visita medesima ha richiesto un impiego importante di personale si parla di 19 agenti per complessive 104,50 ore che porta ad un valore complessivo ad un totale complessivo di 1655 euro al solito a questa cifra vanno sommati gli oneri riflessi che sono di circa 563 euro cioè il 34% quindi con un totale riferiti agli agenti di 2217,70 questi sono i numeri ovviamente la domanda successiva è qual è il filo conduttore che porta a questa interrogazione e il filo conduttore e la valenza della risposta è che secondo me uno stato come quello italiano deve consentire a un suo ministro di venire in una qualsiasi località del paese per presentarsi era stato richiesta la sua presenza a Pordenone quindi per creare un momento di vicinanza alla città e quindi stabilire al solito e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini a me sarebbe piaciuto avere un'interrogazione anche se non c'entra niente con la nostra città su quali sono stati i costi che si sono avuti nella finale Napoli Fiorentina e per i evidenti problemi e disagi che la città di Roma ha avuto a causa degli huligans vorrei capire ma i celerini che ogni domenica sono a questi tipi di manifestazioni e che non sono due voi forse li avete notati che non sono due secondo voi chi li paga non ci siamo mai chiesti però chi li paga li mandiamo e basta perché come paese intendiamo che anche eventi di questo tipo a prescindere da una piccola presenza di scarbanati possono avvenire lo stesso allora il fatto che questa interrogazione venga fatta sulla presenza a Pordenone del Ministro Chienghe non può non portare ad alcune conclusioni che sono sia di genere che di colore e questo su questo noi ci dissociamo in modo forte perché questo è quello che si legge tra le righe ed è il percepito durante la campagna del Ministro Chienghe che quindi è stata qui a Pordenone esattamente nel bar detto bar municipio qui vicino a noi abbiamo avuto il piacere di prendere un bianco con lei quindi se a volte non si approfitta di offerte come il bianco anche da parte dell'interrogante è un vero è un vero un vero peccato perché era aperta a tutti e sarebbe stata una grande opportunità per lei ma per la città grazie grazie prego consigliere Piccinato può dichiararsi se si ritiene soddisfatto solo a completamento siccome mi ero preparato abbastanza sulla cosa volevo anche informarla che il valore in lire del tutto sarebbe di 4.424.376 circa perché visto che lei è affezionato alla divisa precedente la volevo aiutare prego consigliere Piccinato allora innanzitutto informo subito al sindaco che a quanto pare soltanto l'Italia vuole rimanere in Europa che rimane la stessa cosa rimane la stessa cosa che uscirne detto questo quindi più o meno sarà la stessa cosa che parlare in lire con l'euro solo l'Italia ce l'avrà detto questo ringrazio per l'esposizione puntuale dei costi sostenuti che ammontano a circa 3.000 euro quasi 6 milioni delle vecchie lire 4 milioni e qualcosa e ringrazio anche per le parole che sono state spese dopo anzi che non sono state spese per l'atteggiamento che è stato riportato nei miei confronti nel momento in cui c'è stato l'incontro qua in consiglio comunale con la Chiang ho ritenuto doveroso essendoci anche stati presenti i giovani del consiglio comunale dei ragazzi spendere un po' di parole per una lettera aperta che adesso consegnerò al presidente del consiglio chiedendogli di poterla distribuire ai ragazzi per poter spiegare alcune cose che volevo poter dire e che invece non mi è stato consentito di dire ritengo infatti che quanto sia accaduto sia stato indegno e per questo l'ho anche scritto a chiare lettere trovo altrettanto indegno che non sia stata spesa appunto nessuna parola per quanto accaduto mentre per si siano spese parole per situazioni che nulla hanno a che vedere con questa città come voler raccontare qualcosa d'altro giusto per nascondere qualcosa che sia successo qua riguardo al fatto invece accaduto all'interno del bar municipio beh lì è stata una semplice figuraccia del nostro sindaco può anche uscirne con una battuta ma rimane detto questo riguardo al genere e al colore io sinceramente le posso tranquillamente dire che ha un pensiero razzista lei perché se in una democrazia è impedito fare un'interrogazione perché una persona è di colore mi dica lei che democrazia è non c'è stato alcun tipo di pensiero da questo punto di vista da parte mia probabilmente l'unico a pensarlo è stata lei e dimostrazione che il razzista non sono io detto questo anche riguardo all'opportunità di avere il ministro qui ben sapendo quello che si sarebbe creato con la spesa di 3.000 euro circa io penso che si sarebbe dovuto quantomeno formulare in maniera diversa e soprattutto fare in maniera diversa perché appunto il risultato non mi è sembrato adeguato non mi è sembrato positivo mi è sembrata soltanto una situazione che ha esacerbato gli animi e che non ha portato a nulla di positivo tant'è che quando è tornata qua la signora Chiang che non si è degnata nemmeno di essere salutata da me quindi non mistifichi la realtà dicendo che era un'opportunità di incontrarla perché non ha voluto incontrarmi e nemmeno stringermi la mano piuttosto dica che c'erano otto persone e nemmeno lei inizialmente voleva andare a salutarla allora io consegno questa lettera mi ritengo parzialmente soddisfatto della sua risposta e auguro buona giornata grazie signore bene passiamo ora all'interrogazione numero 9 2014 illegittimità del regolamento comunale per la tutela degli animali la sottoscritta consigliere comunale a Mara Piccin premesso che che il consiglio comunale con delibera numero 88 il 29 settembre 2003 ha approvato il regolamento comunale sulla tutela degli animali regolamento divenuto esecutivo il 18 ottobre 2003 che l'articolo 19 del regolamento stabilisce il divieto nel territorio comunale di intrattenere il pubblico in qualsiasi forma di spettacolo pubblico privato a scopo di lucro che contempli l'utilizzo di animali considerato che il circo millennium dei fratelli Coda Pring Sasse di Salli Nunziatine C ha presentato ricorso al TAR al fine di vedersi accolto alla richiesta di annullamento previa sospensiva del dinio comunale alla richiesta di licenza temporanea per spettacoli viaggianti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento comunale sulla tutela degli animali atteso che il TAR ha stabilito l'illegittimità dell'articolo 19 del regolamento in quanto in contrasto con la legge numero 337 1968 che riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e che con l'articolo 120 della Costituzione che vieta agli enti locali di limitare e ostacolare la libera circolazione di persone o cose e di limitarne l'esercizio del diritto al lavoro considerato che tutelare il benessere animale salvaguardare i diritti degli animali è un obiettivo importante delle pubbliche amministrazioni che richiama e sostiene il nuovo sentire collettivo dei cittadini ma che comunque sussiste anche la necessità di tutelare il lavoro e la libera attività economica tutto ciò premesso interroga il sindaco del Comune di Pordenone per conoscere a quanto ammonta la spesa che il Comune di Pordenone ha dovuto sostenere in giudizio se intendono in quali tempi alla luce della pronuncia giurisprudenziale modificare il regolamento comunale sulla tutela degli animali al fine di renderlo conforme ai principi nazionali e comunitari in materia l'assessore Romor prego risponde grazie presidente parto dalla seconda domanda e dopo ci concentriamo sulla prima allora l'articolo 19 del regolamento comunale sulla tutela degli animali è stato cassato con la sentenza del TAR pertanto questo non esiste più in occasione della riunione il 5 marzo del 2014 relativa alle attività di controllo sui circhi ho chiesto alla dottoressa Bizzotto dirigente del corpo forestale dello Stato e responsabile del CITES territoriale se riteneva necessario che l'articolo 19 venisse reintegrato se l'argomento in questione fosse sufficientemente normato la dottoressa Bizzotto ha risposto che il corpo forestale dello Stato ha fatto i controlli relativamente alle norme CITES e che l'argomento è già ampiamente normato da leggi superiori i sopralluoghi vengono fatti congiuntamente con l'azienda sanitaria e con gli altri organi di controllo coinvolti in poche parole traducendo abbiamo chiesto prendiamo l'articolo 19 e lo interpretiamo con le normative CITES l'ufficiale del corpo forestale non occorre è un doppione perché siamo noi stessi che controlliamo quindi l'articolo 19 noi non lo abbiamo più reintegrato perché è già normato da una legge di Stato punto ha portato l'esempio del Comune di Vicenza che ha istituito ad hoc una conferenza di servizi composta da Polizia Municipale servizio veterinario aziende sanitarie vigili del fuoco e corpo forestale il Comune di Polenone ha già costituito da tempo una commissione comunale di vigilanza così composta come prevede la normativa vigente e sono sindaco o suo delegato comandante Polizia Municipale o suo delegato dirigente medico organo sanitario pubblico o suo delegato direttore ufficio tecnico comunale o suo delegato comandante vigile del fuoco o suo delegato esperto in elettrotecnica in occasione dei sopralluoghi in cui vengono coinvolti animali la commissione viene integrata con servizio veterinario dell'azienda per i servizi sanitari CITES corpo forestale basta chiamarli loro vengono e la GEA per problemi di rifiuti quindi per quanto riguarda il regolamento per la tutela dell'animale in generale non avrebbe senso intervenire con delle modifiche dal momento che non esiste letteratura scientifica a supporto che ci dia un preciso indirizzo ci sono solo indicazioni delle varie federazioni che sono solo linee di pensiero e non indicazioni scientifiche mi spiego meglio le indicazioni CITES sono indicazioni scientifiche derivano da un organo mondiale che danno da delle indicazioni scientifiche sulla grandezza della gabbia tanto per tradurre non c'è nessuna rilevanza scientifica al mondo che ci dica che la grandezza della gabbia deve essere tot centimetri tot volte l'apertura all'area per cui il pensiero di una federazione vale tanto quanto il pensiero di un'altra federazione e questo che si dice ci sono quindi solo indicazioni delle varie federazioni che sono solo linee di pensiero e non indicazioni scientifiche non essendoci quindi normative superiori nazionali o europee il nostro regolamento escluso articolo 19 è considerato legittimo e questa è la seconda risposta alla prima il comune di Pordenone ha rimborsato al circo millennium la somma di 650 euro quale contributo unificato così come stabilito con sentenza del tar figlio di Venezia Giulia numero 600 2013 contributo unificato e la parte lo dico a me che non lo sapevo perché sono gli avvocati che sanno queste cose la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato l'importo viene stabilito dalla legge in base al valore del processo che è una legge del 2012 che dice che a torto paga questo contributo unificato il tar ha detto soltanto che noi dovevamo pagare questo contributo unificato e c'è stata la compensazione delle spese commento mio personale non è tanto questo 650 euro che è la somma più importante sulla quale noi dobbiamo fare riferimento ma quanto abbiamo pagato purtroppo di immagine per ciò che è avvenuto a Pordenone in questo periodo siamo andati sulla cronaca come città violenta come città non accogliente e questo forse è il prezzo più grande che abbiamo pagato non so a causa di chi non so a causa di cosa ma il prezzo più grande non sono 650 euro ma l'immagine che abbiamo dato all'Italia grazie grazie assessore prego consigliere piccino grazie presidente ringrazio l'assessore per la risposta in parte articolata che mi è stata data concordo anch'io sull'ultimo aspetto assessore che ha detto lei non tanto per il danno dei 650 euro che comunque sono sempre soldi ma che però insomma sono una somma limitata quanto per il danno d'immagine c'è però un'altra questione il danno d'immagine non credo che l'abbia provocato il circo credo che l'abbiano provocato quelle persone che in qualche modo si sono rivolte da una parte dall'altra non lo so con una protesta che forse non è nemmeno stata civile allora detto questo e su questo lei sicuramente non o l'amministrazione ha margini come dire limitati per l'intervento ciò che lei mi dice è il fatto che non si intervenga sul regolamento va bene ho compreso anch'io e l'ho visto in internet che avete cassato l'articolo 19 ma faccio presente che siccome ho letto qui la sentenza io non sono nemmeno io un avvocato ma cerco di come dire ingegnarmi in queste cose perché altrimenti dovrei tenermi un avvocato vicino che ce l'ho ma non può lavorare per me no? adesso allora qua si dice la il comune si difende dice avete impugnato tardivamente il regolamento e il tar risponde giustamente guardate che è stato impugnato nel momento in cui ha creato un danno allora noi abbiamo ottenuto un regolamento per un dieci anni un regolamento chiedo scusa un regolamento che non andava bene e che poteva e avrebbe potuto e lo ha fatto creare dei danni a chi a chi esercita una libera attività c'è di più lei prima ha citato il CITES e il CITES io per un altro lavoro che facevo prima lo conosco molto bene e fa riferimento al corpo forestale dello Stato e fa riferimento alla osservazione di una normativa europea cosiddetta direttiva uccelli di conservazione esatto già dal 79 mondiale certo allora noi con il nostro regolamento il comune di Pordenone era andato sopra a quello perché qui è scritto bene cioè un regolamento comunale non solo è andato contro ad una legge dello Stato ma è andato contro a questo tipo di direttiva le linee guida elaborate dalla commissione CITES che hanno stabilito la strata possibilità per i circhi di detenere di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica o esotica stabilendo solo un divieto per l'uso delle specie in via di estinzione ma ammettendo l'attendamento per alcune specie di seguito elencate allora non sono i 650 euro e non è nemmeno quello che è successo qui posto il danno dell'immagine ma la gravità di questa cosa invece sta nel fatto che il comune di Pordenone in un momento sicuramente come dire di follia normativa o regolamentare è andato oltre alla legge nazionale è andato oltre alla direttiva CITES e ha mantenuto in essere questo regolamento per tutti questi anni allora lei permette assessore di dire che cosa che mi fa piacere che ci sia stato un tavolo che ha in qualche modo chiarito e lei oggi mi ha detto sul regolamento non interveniamo perché il regolamento è a posto e io di quello che mi dice lei mi fido prendo atto e spero effettivamente che sia così per quanto riguarda l'accenno che ha fatto lei in merito alle cosiddette come dire misure delle gabbia che ha fatto riferimento e alle direttive delle associazioni non è così e lei invito ad andare a vedere ciò che dice un organismo dello Stato del Ministero dell'Ambiente si chiama ISPRA Istituto Superiore per la Protezione della Fauna o comunque qualcosa del genere questa questo è un ente scientifico e questo ha definito tutta una serie di questioni per cui ciò che viene detto dalle associazioni e quello che dice lei cioè un'associazione vale l'altra non è così sarà probabilmente per alcune ma per quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente faccio riferimento alla FOI e lei sa che faccio riferimento e il signor Sindaco anche perché avevamo avuto modo di parlare in passato a quella manifestazione che è stata negata in fiera da parte dell'amministrazione comunale a quelle direttive ISPRA la FOI fa riferimento perché è associazione non con tutto rispetto della circoscrizione Nord Sud o del Comune XY ma a livello internazionale grazie grazie consigliere bene dunque adesso ci sarebbe l'interrogazione sui contributi ma mi ha chiesto il consigliere Ribetti di metterle in coda perché ha dimenticato gli appunti passiamo pertanto all'interrogazione 10 sempre del consigliere Ribetti comunicazione sulla pessima sistemazione di piastrella rotta sul corso Vittorio Emanuele II è sottoscritto Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliare PDL Popola Libertà Fratelli d'Italia del consiglio comunale del comune di Pordenone premesso che lungo corso Vittorio Emanuele II nel pieno centro della città sia rotta una mattonella di marmo che come altre delimita i cubetti di Porfido nel luogo della sostituzione è stato fatto un pessimo rattoppo con una buttata di cemento foto tutto ciò premesso sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco ed assessore competente per conoscere 1. le motivazioni per le quali si sia posto rimedio alla rottura in tale modo 2. se sia intenzione dell'amministrazione provvedere conformemente al resto della strada ovvero ripristinando la mattonella in marmo mancante 3. il costo sostenuto per tale pessimo rattoppo 4. la tempistica per ripristinare la sede stradale com'era per spiegare per rispondere contestualizzo stiamo parlando del 24 febbraio come ricordate in quel periodo c'era parecchia era un periodo molto piovoso per cui nel momento in cui si è creata la rottura effettivamente è stato fatto un rattoppo provvisorio temporaneo con dell'asfalto casualmente proprio nella stessa giornata in cui c'è pervenuta l'interrogazione il nostro operaio è andato a sostituire l'asfalto con la mattonella poi successivamente in una fase successiva credo un mese circa dopo è stata fatta il rattoppo e la sistemazione definitiva per cui direi che il progredire della questione nasceva proprio anche dal fatto che c'era un periodo particolarmente difficoltoso con la pioggia per cui andare a fare immediatamente il rattoppo con il cemento significava doverlo ripristinare come tra l'altro è accaduto in altre parti relativamente per cui i due quesiti i primi due quesiti la risposta è questa relativamente ai costi sostenuti il primo rattoppo è costato 5 euro di materiale 10 euro di manodopera perché 10 minuti mezz'oretta di lavoro dell'operaio del comune la sistemazione definitiva è costata 25 euro di materiale 40 euro per la manodopera perché il tutto è stato fatto comunque con personale dipendente grazie assore prego consigliere ribetti grazie grazie presidente francamente non ho capito la risposta non è un grossissimo problema assessore nel senso che quando ho visto quel rattoppo mi sembrava particolarmente brutto quindi non capivo i motivi che impedissero di metterci mano subito in maniera definitiva mi sarei aspettato una risposta del tipo non c'era il materiale a disposizione di questo tipo perché per fare il rattoppo mi sarei aspettato una risposta tipo non c'era il pezzo di marmo a disposizione di questo tipo invece se non ho capito male è stata una questione dovuta al tempo atmosferico così capisco comunque l'importante è che poi sia stato messo a posto il mio timore è che restasse quel rattoppo come si vede in altre zone come si è visto in altre zone della città dovuto a problemi di cassa prendo atto che avete messo a posto e quindi soddisfatto per l'esecuzione seconda definitiva non per la prima grazie bene grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 13 del 2014 al signor sindaco del comune di Pordenone sottoscritti i consiglieri comunali realista vivo Pordenone uno ha preso dalla stampa l'ipotesi di soppressione degli uffici della polizia postale e delle comunicazioni via Santa Caterina di Pordenone due ha avuto conferma di tale ipotesi di soppressione il giorno 1 marzo 2014 sempre a mezzo stampa da parte del questore di Pordenone tre considerato che la pol post di Pordenone è un importantissimo punto di riferimento per i cittadini che subiscono truffe o sono diffamati sul web o che magari denunciano siti dal contenuto pedopornografico che tali reati sono in continuamento e rappresentano la nuova frontiera del crimine online quattro visto che la polizia postale e delle comunicazioni è l'unica forza dell'ordine preparata e specializzata per il contrasto alla criminalità in danno di tecnologie e di comunicazioni e per la prevenzione e repressione dei reati consumati attraverso l'utilizzo delle stesse cinque tenuto conto che tutta l'attività svolta dalla polizia postale di Pordenone qualora il presidio venisse chiuso sarebbe trasferita a Trieste con notevoli disagi per i cittadini del nostro territorio e tenuto altresì conto che esperienza specializzazione e investimenti sviluppati e accresciuti sul nostro territorio nell'arco degli anni a beneficio di tutti i cittadini andrebbero sprecate interrogo nel signor sindaco per conoscere se la paventata chiusura del presidio di polizia postale e delle comunicazioni corrisponde a verità qualora tale notizia fosse fondata si intendono intraprendere tutte quelle azioni presso le autorità competenti atte a scongiurare la chiusura del suddetto presidio di polizia postale di Pordenone evitando ai cittadini il disagio di doversi recare presso altre sedi per denunce riguardanti i reati commessi tramite web firmato consiglieri Palmisano e Freschi risponde l'assessore Zille prego assessore si in base a questa interrogazione ci siamo mossi abbiamo avuto un incontro specifico con il signor questore proprio perché ci descrivesse ma soprattutto ci potesse rispondere a quelle che erano le preoccupazioni derivati appunto dalla 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 chiusura del presidio per quanto riguarda l'attività della polizia postale qua di Pordenone e dalla dalle da quanto è stato esposto dal signor questore e dalle rassicurazioni che questi ha dato ha spiegato che per quanto riguarda la polizia postale per tutte quelle che sono le attività di controllo sul web vengono razionalizzate all'interno ovviamente di un processo che non è solo che riguarda qua la nostra provincia ma a livello nazionale e nello specifico verranno concentrate in quelli Trieste quindi viene confermato questo trasferimento questo ovviamente rientra in un quadro più generale di quella che è diciamo così la razionalizzazione del personale all'interno della polizia postale ma mi pare che l'aspetto più importante era quello relativo del front office cioè relativo alle denunce che quelle rimangono qua in città per cui i nostri concittadini che ravvisano dei problemi per quanto riguarda truffe o cose di questo genere avranno comunque il servizio teniamo presente che concentrando su Trieste tutte quelle che sono le frodi di carattere informatico ormai sappiamo benissimo che possono essere concentrate in qualsiasi luogo perché queste avvengono a livello mondiale e quindi credo che questo tipo di ragionamento possa essere anche condivisibile ciò che invece abbiamo chiesto era che il front office cioè l'acquisizione delle denunce avvenissero qua in città e questo ci è stato confermato e rassicurato da parte del questore ci ha anche detto che comunque solo una piccola parte del personale cioè quello squisitamente tecnico andrà a Trieste l'altra parte del personale e mi pare che dovrebbero essere state circa 8 o 10 unità relative a questo tipo di servizio con le varie turnazioni e quant'altro verrebbero reimpiegate per rinforzare invece tutti gli aspetti relativo a quello che è il controllo e tutta l'attività per quanto riguarda la sicurezza peraltro tema che in più occasioni e anche nel Comitato per l'Ordine della Sicurezza come amministrazione comunale abbiamo chiesto di poter aumentare la possibilità del controllo del territorio soprattutto per tutti quei fenomeni che conosciamo e che recentemente anche lo stesso questore ha indicato quindi sotto questo profilo il front office delle denunce e quindi il servizio fondamentale per i nostri concittadini rimane qua a Pordenone grazie sessore prego consigliere sì grazie grazie sessore per la risposta ritengo che almeno da quello che sono riuscito a capire mi pare che ci sia una certa rassicurazione da parte del questore sul fatto che rimangono in città presso la questura rimangono gli uffici che in qualche modo sono adibiti alla raccolta delle eventuali denunce certamente questo è un aspetto è un settore estremamente delicato che richiede del personale qualificato perché ritengo che anche a fronte di possibili denunce che vengono fatte l'importante è trovare un interlocutore che abbia l'esperienza e la conoscenza dei problemi che non sia semplicemente la redazione di un di un verbale per cui io spero che quanto da lei riferito a questa assemblea sia diciamo in qualche modo rassicurante per per gli utenti mi dispiace che il mio collega non sia presente questa sera perché aveva sostenuto questo tipo di interrogazione ma mi pare di capire e qui le invito anche lei assessore ad essere attento anche nel proseguo di questa di questa vicenda perché è chiaro che un settore come questo che vediamo ormai continuamente alla ribalta per problemi per truffe e per quant'altro è un settore che va attentamente seguito e va dato modo ai cittadini che dovessero trovarsi situazioni di questo tipo di poter accedere con facilità e trovando del personale e dei riferimenti che in qualche modo siano competenti nell'affrontare questo tipo di situazioni per cui io penso che ci si possa dichiarare soddisfatti di quanto il Comune può fare in quest'ambito perché non è una sua competenza ma la competenza è quella di dire cerco di salvaguardare i servizi ai cittadini intervenendo anche presso altre istituzioni in modo tale da poter garantire una risposta una presenza e un sussidio ecco chiudo semplicemente dicendo che il problema va continuamente monitorato e non si ferma con questa interrogazione grazie grazie consigliere passiamo all'interrogazione numero 16 del 27 marzo 2014 esposto in merito ad eventuali affissioni abusive sul territorio comunale di Pordenone di Locantine del circo di Viviano Orfei presentata dal consigliere Francesco Giannelli buongiorno vorrei sapere se all'allegato esposto tramesso la polizia municipale all'ufficio affissione al comune di Pordenone composta certificata il 23 24 del 18 marzo è stato dato riscontro la termissione conteniva file immagine via verstransfer si trattava di file piuttosto pesanti che non consentivano altra tipologia di termissione che ad oggi non hanno ricevuto alcuna notifica di venuta visione ragione per cui ho motivo di affermare che le immagini non siano mai state mai state né scaricate né visionate dai destinatari solo per inciso mi risulta che le stesse immagini fossero state spedite per conoscenza alla redazione del messaggero veneto la cui notifica di download di visione è arrivata dopo poche ore restando in attesa di riscontro vi saluto cordialmente risponde l'assessore Zille Zille prego pronto sì allora per quanto riguarda le affissioni abusive relative al circo Viviana Orfei io ho questo dato non so poi esattamente qua per quanto riguarda l'ufficio perché non ho seguito io ho seguito la parte che riguarda i vigili urbani per quanto riguarda le affissioni sul territorio comunale sono state rilevate dai controlli quattro violazioni all'articolo 19 del regolamento comunale e tale violazione comporta una sanzione di 209 euro cada una che sono già state a suo tempo notificate ecco questo è quanto riguarda il lavoro dei vigili urbani fatte a seguito appunto della propria attività che svolgono normalmente relativo appunto alle affissioni e nello specifico quelle relative alle locandine del circo Viviana Orfei queste chiaramente erano erano ovviamente fuori luogo e quindi sono state sanzionate ecco io ho questo dato non so se c'è altro che può essere integrato completo al consigliere soltanto per dire che sono state vidimate pagate 100 pezzi di locandine questo per informazione della concessionaria che ha verificato se ce ne fossero esposte di quelle senza timbro e nel qual caso anche loro avrebbero recuperato la tassa perché c'era mancata timbratura anche con la sanzione ma io non ho riscontri del fatto che ci fossero locandine non timbrate e quindi mi dicono che queste 100 locandine che sono state timbrate sono state esposte poi per quel che riguarda la concessionaria soltanto se hanno il timbro va bene quel che riguarda invece la polizia è invece dove sono state esposte mi dicevano che in qualche caso era difficile vedere il timbro ma nel parte dove indicate dove hanno verificato loro il timbro c'era grazie assessori prego consigliere se vuol dichiarare se è soddisfatto allora assessore assessori no non sono affatto soddisfatto cioè sta roba qua è vecchia però non sono soddisfatto perché salvo che io non abbia il cerume in condizioni disastrose nell'orecchie mi avete mi avete detto che voi vi siete fatti pagare avete riscontrato quattro violazioni questa persona qua che vi manda una una mail ufficiale per posta certificata vi fa un elenco di file con le fotografie quindi una prova provata di ben venti violazioni violazioni quindi situazioni irregolari 20 vi dice dove via numero e vi da i file con le immagini non a caso siccome i file non erano stati neanche aperti a me hanno detto guarda che questi se ne sono sbattuti altamente io ho detto no non è possibile invece sì perché altro che disconti qua ve ne hanno date 20 bastava prendere andare aprirsi questo file quindi per me non avete fatto un lavoro anzi non dico sono diventato molto tenero nei suoi confronti assessore potrei dire omissione dati d'ufficio ma non lo dico ma ma non la dico assessore ho detto potrei dirlo ma non la dico no no assessore mi dicono che potrei dirlo e io non lo dico mi dicono che lei non è stata attenta io non ci credo io questo non credo assessore allora lei mi dice non siamo stati sufficientemente attenti vabbè non è mica la fine del mondo invece dire non ho riscontro non va bene assessore no mi sono preso l'oltre dice non ho riscontri allora sta gente qua cosa fa allora io come ripeto lei sa assessore che su queste cose pur essendo interessato perché amo gli animali non è una cosa grave però non è una cosa grave no non è una cosa grave non omettere di non aver visto le fotografie di una persona che manda una mail e dice guardate che ci sono questi manifesti in giro ho fatto le fotografie anche io le ho mandato spesso le fotografie delle piazze delle strade luride ma il fatto che non le avete pulite non è grave è una cosa che con tutte le questioni che sono in piedi in un comune però ecco mi attendevo a dire vabbè avevano tante robe da fare non siamo riusciti poi la questione è anche scottante eccetera non sono soddisfatto Assessore e questo mi dispiace perché lei e soprattutto l'Assessore Zille siete punta di diamante di questa amministrazione grazie consigliere comunicazione allora interrogazione numero 17 comunicazione su manifestazioni contro la donata degli alpini il sottoscritto Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliare PDL Popolo della Libertà Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone premesso che sul profilo Facebook di tale Marcello Russo è apparsa una foto contro l'87esima donata nazionale degli alpini allegato uno con il motto Alpini GOM parimenti a seguito del salvataggio di alcuni soggetti provenienti dallo Stato extra UE ed entrati nel patrio suolo con mezzi di fortuna parebbe che gli stessi siano inviati nel territorio della provincia di Pordenone pare anche a Piancavallo in alberghi a spese della collettività parrebbe per 50 euro al giorno tra i quali alcuni soggetti con malattie trasmissibili con conseguente disdetta dalle camere già prenotate da parte di coloro che avevano già prenotato le altre stanze nei giorni della donata nazionale tra le attività imprenditoriali della città molte hanno allestito vetrine sul tema della donata nazionale degli alpini spendendo molte risorse proprie per rendere omaggio all'evento tutto ciò permesso sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco ed assessore competente per conoscere 1. se l'amministrazione abbia intrapreso iniziative volte a verificare se sul territorio comunale siano comparse effettivamente le immagini di cui ha legato 1. 2. in caso affermativo 2. se parimenti l'amministrazione comunale abbia dato mandato alla polizia comunale ai fini dell'identificazione dei responsabili se del caso attraverso l'ausilio delle videoregistrazioni nelle zone interessate dagli imbrattamenti con conseguente denuncia dei responsabili anche se non identificati all'autorità giudiziaria 3. sempre in caso affermativo quali siano le iniziative che l'amministrazione comunale intende prendere a tutela della propria decisione di fornire l'appoggio alla manifestazione 4. se risponde al vero che alcuni dei soggetti arrivati su mezzi di fortuna in Sicilia verranno stabiliti in città e in provincia al costo di 50 euro al giorno 5. se risponde al vero che alcune delle persone che avevano prenotato in città e provincia ad esempio Piancavallo ha preso la notizia hanno disdetto la prenotazione per il weekend dell'87esima donata agli alpini 6. se si ha intenzione dell'amministrazione indire un concorso informale con premio in danaro anche simbolico e o tramite targa e o coppa commemorativa a favore dell'attività imprenditoriale che allestisca la vetrina commemorativa dell'evento ritenuta da giuria di esperti comitato organizzatore la migliore firmato Francesco Ribetti risponde l'assessore Zille era moro prima l'assessore Zille prego allora per quanto riguarda il profilo facebook di tale Marcello Russo è stata incaricata sia la polizia municipale e poi anche la Digos di fare un'indagine su questo è stata fatta sia sul territorio della città dal quale risulta che non c'erano queste immagini e queste stampe ma è solo questo profilo che è stato probabilmente rilanciato ma di una cosa vecchia tra l'altro avvenuta fuori di qua in un'altra regione d'Italia quindi non abbiamo avuto questo abbiamo fatto le verifiche sia i nostri vigili sia la Digos non ha rintracciato da nessuna parte questa stampa che lei opportunamente ha mandato e quindi credo che poi anche la conseguenza della risposta viene ecco per quanto riguarda invece se corrisponde al vero che alcuni soggetti dalla Sicilia ecco qua preferirei poi l'assessore Romor che ha seguito questa cosa con la prefettura dia la risposta per quanto riguarda e terminano invece se l'intenzione dell'amministrazione è dire un concorso formale tra le vetrine devo dire che l'amministrazione assieme all'ASCOM ha fatto una lettera proprio invitando oltre che tenere aperte anche l'attività che vengano opportunamente decorata e con sviluppo e territorio appunto si è visto adesso si vedrà nelle forme proprio per incentivare abbiamo incaricato sviluppo e territorio che ha creato ovviamente questo giro di controllo per quanto riguarda l'allestimento che devo dire la risposta è stata molto buona perché abbiamo visto tutti che girando i nostri commercianti assieme a loro anche tutti i cittadini ma nello specifico hanno fatto un buon lavoro credo che all'interno di sviluppo territorio poi si andrà anche a definire un riconoscimento alla vetrina più bella o comunque quella che è a tema quindi voglio dire l'amministrazione si è mossa in questa direzione che lei ha auspicato con questa interrogazione per il resto chiederei all'assessore Romoro se gentilmente mi può dare una risposta sì anche se devo scusi se aggiungo anche se devo dire da un'informazione dal punto di vista non ci sono state defezioni per quanto riguarda in piancavallo di Alpini che questo non ci risulta da nessuna fonte di chi gestisce ovviamente tutta la parte alberghiera appurato che il problema dell'immigrazione non viene gestito da noi ma viene gestito direttamente dal prefetto e che noi siamo coinvolti in maniera indiretta per collaborare con il prefetto nel cercare alcune soluzioni nella fase pre-Alpini c'è stata una prima gruppo di persone che sono state allocate nella nostra provincia e una parte alla locanda al sole che però ha dato la propria disponibilità fino alla settimana prima della donata degli Alpini perché aveva già le prenotazioni quindi finì l'alloggio all'ocanda al sole la settimana prima il prefetto in persona e questo deve essere chiaro per tutti noi contattò la proprietà dell'Altares albergo chiuso per la stagione finita chiese la proprietà se era disposto ad accettare un gruppo di persone e furono trasferite tutte quante quelle della locanda al sole e le altre 40 quindi 57 andarono all'Altares il quale Altares aprì dette garanzia di apertura a patto che ci fosse un numero consistente tale da poter avere un'entrata da pagarsi le spese e avere il giusto guadagno non si tratta più di 50 euro al giorno ma con l'operazione Mare Nostrum sono 30 euro al giorno omnicomprensivi di cui 2 euro e 50 vengono date alle persone e le rimanenti vengono date in gestione totale gestione totale che vuol dire albergaggio e inclusione e tutto percorso inclusivo quindi la situazione in questo momento siamo Madonna Pellegrina 25 Antares 57 partiti e forse siamo 51 5-6 di meno e loro canda al sole 6 6 sono andati via perché non sono prigionieri una volta fatta l'identificazione possono girare liberi fatta l'identificazione quindi non sono andati a dormire in 6 non sono più tornati a dormire all'Antares questo è un problema molto importante e anche rilevante è prevista un'altra ondata abbiamo un'altra ondata e quindi abbiamo un momento come si diceva importante grave perché il mare in questo periodo è più calmo e meno mosso dell'inverno per cui tendono facilmente ad venire in questo periodo è stata fatta una bozza a livello governativo alla regione Friuli-Venezia-Giulia sono stati calcolati circa 400 posti divisi fra le varie province a noi toccherebbero circa un centinaio di posti che adesso dovremo trovare la soluzione anche per questo vi dico però che già mercoledì prossimo abbiamo un incontro di nuovo in prefettura il sistema SPRAR è stata per fortuna incentivato che è un sistema governativo che partecipa direttamente tramite la cooperativa affiliata alla Caritas nuovi vicini che va ad accogliersi il problema e fare un inserimento diffuso il problema sarà accogliere i primi tempi queste persone per poi immediatamente collegarli al sistema SPRAR in questo sistema di integrazione diffusa questo è per cui alla domanda vi ho aggiunto delle altre notizie ma alla domanda del se hanno portato via posti di alpini no perché il prefetto stesso ha fatto oprire l'antares per queste persone l'antares ha il contratto fino al 30 di giugno dopo il 30 di giugno dice non ve li accolgo più perché comincia la mia stagione estiva grazie assessore prego consigliere grazie presidente ringrazio gli assessori per quanto riguarda forse la dichiarazione di soddisfazione sicuramente soddisfatto che l'amministrazione abbia colto quella che era un suggerimento insomma tramite sviluppo territorio perché come evidenziato nell'interrogazione stessa molti commercianti l'hanno fatto anche con entusiasmo diciamo la verità però hanno anche speso dei soldini insomma quindi non fosse altro anche un premio simbolico insomma un riconoscimento simbolico mi sembra corretto insomma che rientri anche forse nello spirito di quella che è la manifestazione che abbiamo vissuto per quanto riguarda poi un'altra parte di interrogazione sono accolgo con piacere quello che mi dice l'assessore Zille sul fatto che non fossero sul nostro territorio tali immagini però l'abbiamo visto mi sono state segnalate sul profilo di questa persona quindi mi sembrava opportuno chiedere dei lumi quindi sono stati fatti quindi sono soddisfatto perché l'amministrazione si è attivata in tal senso sono soddisfatto anche per la dovizia dei particolari della risposta dell'assessore no more diciamo che forse sono un pochino più perplesso sul fenomeno in generale perché io credo che sia un fenomeno molto delicato e sicuramente è difficile soluzione si parla di persone che chiaramente se scappano da realtà diverse non stanno bene diciamo che nessuno vuole andarsene vanno a cercare forse miglior fortuna ecco forse però non credo che il modo con cui il nostro Stato decide di affrontare questa questione e ho usato la parola Stato apposta perché io adesso non voglio gettare la croce addosso all'amministrazione magari la getterei addosso a chi ha fatto o ha disfatto delle norme che giusto o sbagliate c'erano in qualche maniera dovevano essere rispettate anche se lo erano in maniera venivano rispettate diciamo a modo loro ecco io direi che una riflessione seria dovrebbe essere fatta chiaramente a livelli più alti però ritengo anche che se un'amministrazione nel proprio piccolo si fa sentire e fa capire tramite l'intervento sul prefetto che è rappresentante del governo sul territorio di trasfondere a livelli superiori quello che può essere anche un malessere che attenzione non voglio dire che dobbiamo essere razzisti sono fatti loro rimandiamo via però io credo che non sia più sopportabile oltre modo sopportabile un afflusso indiscriminato indistinto di tutte queste persone va regolamentato in qualche maniera ripeto una soluzione difficile da trovare però va fatta perché bisogna salvaguardare sì chi sta male fugge da certi territori ma ritengo che vada anche salvaguardato chi in questo territorio vive e diciamo non se la passa proprio bene quindi se risorse sono limitate debbano essere utilizzate nel modo migliore per tutelare tutti è il mio modo di vedere ma questa è la mia idea personale soprattutto chi quelle risorse su quel territorio ha contribuito a metterle grazie grazie consigliere bene mi sembra di il tempo l'abbiamo esaurito mancherebbero un paio di minuti però non riusciamo a fare un'altra interrogazione nei due minuti perciò la riviamo alla prossima seduta bene passiamo ora alle deliberazioni allora come avevo detto all'inizio della serata le deliberazioni le proposte di deliberazione numero 18 19 20 21 verranno e avranno un'unica esposizione un'unica discussione come deliberato in sede di conferenza dei presidenti pertanto discussione unica votazione separata per i seguenti argomenti allora proposta numero 18 2014 sentenza del tribunale amministrativo regionale periferi di Venezia Giulia numero 106 2014 nella causa Comuni Pordenone Policlinico San Giorgio SPA riconoscimento debito fuori bilancio poi proposta numero 19 2014 sentenza del tribunale amministrativo regionale periferi di Venezia Giulia numero 646 2013 nella causa Comuni Pordenone Claudia Breda Renato Bresin riconoscimento debito fuori bilancio proposta numero 20 2014 sentenza del tribunale amministrativo regionale periferi di Venezia Giulia numero 649 2013 nella causa Comuni Pordenone Cosmic SRL riconoscimento debito fuori bilancio proposta numero 21 2014 sentenza della Corte di Cassazione numero 4804 del 5 novembre 2013 nella causa Comuni Pordenone Santin Alessandro e altri spese giudizio riconoscimento debito fuori bilancio la parola all'assessore Toffolo credo inizi prego assessore Toffolo grazie presidente io illustrerò le prime tre delibere in quanto sono dei debiti fuori bilancio che scaturiscono a seguito di scusa si sente poco adesso si sente meglio grazie scaturiscono da dei provvedimenti che sorgono all'interno del settore edilizia privata la prima è relativa ad una causa che vede coinvolto il Comune di Pordenone e il Policlinico San Giorgio nel 2008 il Policlinico San Giorgio la Casa di Cura Policlinico San Giorgio ha richiesto una concessione edilizia per l'ampliamento della struttura stessa che gli è stata concessa nel 2000 sì nello stesso anno a seguito di tale rilascio è stato anche richiesto il versamento del pagamento del contributo concessorio relativa alla parte in ampliamento la società ha ritenuto che la concessione per l'ampliamento non fosse soggetta a versamento di contributo di concessione in quanto secondo la società stessa ricadeva in quelle da rilasciarsi a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 94 comma 1 della legge 52 del 91 in quanto la casa appunto era classificata tra le attrezzature e opere di interesse generale in quanto soddisfacente ad un interesse della collettività e rientranti nelle istituzioni competenze e degli enti realizzatori di conseguenza ha impugnato il provvedimento e tale provvedimento è stato rigettato dal Tar che ha riconosciuto invece la correttezza del contributo richiesto dal comune stesso quindi in quel caso appunto il comune ha riconosciuto che scusate il Tar ha riconosciuto che il comune aveva il diritto di chiedere il versamento della concessione nel lato di costituzione in giudizio la casa di cura policlinico si era riferita come precedente ad una concessione per un analogo ampliamento che aveva ottenuto nel 1998 per la quale appunto non era stato richiesto il versamento del contributo di costruzione e quindi all'epoca era stata rilasciata a titolo gratuito visto che nel momento in cui appunto è stato presentato quest'atto non erano ancora scaduti i dieci anni necessari che mettevano in prescrizione tale possibilità l'amministrazione ha deciso di procedere nei confronti della casa di cura policlinico chiedendo il versamento anche di quel contributo di concessorio relativo appunto alla pratica del 1998 naturalmente in questo caso il policlinico ha presentato ricorso al tribunale amministrativo e in questo caso il tribunale amministrativo ha rigettato scusate ha accolto il il ricorso presentato dalla casa di cura policlinico lo ha accolto e ha condannato il comune di Pordenone a rifondere il ricorrente delle spese di giudizio pari ad un importo di 4.000 euro che poi più l'IVA e quant'altro arrivano ad un importo totale di 5.575 20 euro io naturalmente non mi addentro in quelle che sono le motivazioni della sentenza perché non sono di mia competenza sta di fatto che in questo caso il TAR ha ritenuto che il determinazione degli oneri andasse fatto applicando i principi della legge 241 del 90 e quindi impone all'amministrazione di valutare l'interesse privato e l'aspettativa consolidata quindi con tale delibera si propone appunto il pagamento di quanto richiesto dal tribunale tenendo conto che gli uffici competenti dell'amministrazione stanno valutando di pugnare la sentenza in oggetto davanti al consiglio di stato e questa è la prima la seconda è invece la causa che vede una contraposizione tra privati e cioè tra la signora Breda e il signor Bresin il provvedimento nasce a seguito di una concessione edilizia rilasciata a Vallenoncello e relativa ad una ristrutturazione con sopraelevazione di una casa singola sita appunto a Vallenoncello l'intervento che appunto vedeva la ristrutturazione e sopraelevazione ha visto la modifica della copertura e un lieve sopraelevazione e un leggero aumento della cubatura complessiva operazioni ammesse dai regolamenti comunali vigenti il professionista però nel presentare la pratica non ha rappresentato correttamente la situazione in essere e quindi a seguito della segnalazione del vicino gli uffici dopo verifica hanno certificato l'irregolarità della situazione in essere della pratica presentata e quindi hanno proceduto all'annullamento in autotutela del provvedimento con richiesta quindi di demolizione io tengo a precisare che il professionista nel momento in cui presenta una pratica agli uffici assevera con responsabilità civile e penale la correttezza della rappresentazione negli elaborati stessi e della situazione reale ed infatti a seguito di questa verifica da parte degli uffici il comune ha provveduto alla segnalazione in procura nei confronti del professionista e della proprietà vista l'irregolarità della pratica stessa a seguito dell'emissione dell'annullamento del procedimento in autotutela il professionista ha presentato una relazione nella quale ha dimostrato che la demolizione avrebbe comportato una compromissione della struttura stessa e quindi ha chiesto di poter trasformare avvalersi quindi della facoltà prevista dalla norma di trasformare la demolizione in sanzione pecuniaria gli uffici a seguito della presentazione di tale relazione hanno fatto un istruttore e hanno validato considerando ammissibile la richiesta e quindi hanno proceduto alla conversione da demolizione a sanzione pecuniaria per un importo intorno ai 15.000 euro la signora Breda ha impugnato il provvedimento ed il 10 12 2013 il TAR del Friuli Venezia Giulia ha depositato la sentenza con la quale il Comune di Pordenone viene condannato al ristoro delle spese e competenze giudiziali nei confronti della richiedente per un importo di 2.500 euro la motivazione della sentenza non sta tanto nella questione della possibilità o meno di trasformazione della demolizione a sanzione peculiane quanto il Tribunale rileva l'insufficienza della validazione nella relazione e chiede che il Comune fa presente che il Comune debba procedere con una verifica improprio della situazione per sostanziare la trasformazione da demolizione a sanzione peculiaria quindi con un proprio e autonomo parere tecnico quindi sempre il TAR ha stabilito la riformulazione del provvedimento che andrà integrato e previ appunto dettagliata istruttoria tecnica volta a chiarire in via definitiva se la demolizione comporta una effettiva messa in crisi della struttura e quindi risulti sostanziale la sua trasformazione in sanzione azione che l'amministrazione ha già avviato e quindi sta procedendo con i propri uffici alla redazione tecnica e alla verifica statica l'importo complessivo da liquidare in questo caso è pari a 3568 virgola 50 euro l'ultima causa è quella relativa al cosmic qui andiamo nella notte dei tempi partiamo dalla situazione mi dovrete perdonare ma vi racconto quello che è successo nel 1998 il vigente piano regolatore prevedeva per l'area oggetto oggi dell'edificio del cosmic cioè della palestra con terme una destinazione urbanistica in zona per servizi quindi prevedeva all'epoca una destinazione pubblica e una zonizzazione pubblica all'interno della quale sarebbe stato possibile allocare destinazioni quali polizia parco o attrezzature sportive ma con la particolarità che qualora fossero state realizzate attrezzature sportive ad esempio da parte di un privato questo avrebbe potuto realizzarle solo in forma di servizi e quindi a seguito di un convenzionamento sull'utilizzo della medesima struttura da sottoscriversi con l'amministrazione per una durata temporale di 30 anni perché appunto erano zonizzazione di allora zona per servizi all'epoca il Cosmic era un'associazione dilettantistica e iniziò l'operazione di acquisizione dei terreni per poter fare l'intervento e procedere quindi con la realizzazione di una struttura rendendosi da lì a poco conto che l'operazione nel momento in cui fosse stata convenzionata non sarebbe stata economicamente sostenibile e pertanto presentò all'amministrazione comunale di allora parlo del sindaco Pasini siamo a quell'epoca chiese la realizzazione di una variante urbanistica con passaggio da attrezzature sportive pubbliche quella che era all'epoca la destinazione a zonizzazione H4 cioè centro sportivo o centro benessere di iniziativa privata naturalmente passando da una destinazione pubblica ad una destinazione privata veniva meno la necessità di convenzionamento della struttura stessa o l'amministrazione perché si passava da un interesse pubblico ad un interesse privato la concessione edilizia venne rilasciata nel 1998 per la realizzazione appunto di un centro polifunzionale per lo sport e il tempo libero e le relative opere scusate di urbanizzazione e il comune all'epoca chiese il versamento degli oneri di urbanizzazione visto che il carattere era privato il Cosmic che versò gli oneri fece ricorso al Tar per vedere il ristoro degli oneri versati e stessa analoga procedura si ripetè successivamente nel 2002 a seguito di un ampliamento della struttura stessa l'ampliamento che venne concesso loro versarono gli oneri e fecero ricorso anche in quel caso nel 2002 la prima nel 1998 la seconda nel 2002 il Tar del Friuli Venezia Giulia si è espresso il 12 dicembre del 2013 quindi sono passati un po' di anni e ha accolto il ricorso obbligando quindi il comune di Pordenone a restituire gli oneri della prima concessione cioè quella del 1998 e quella successiva della variante e condannando anche il e condannando anche il comune al pagamento delle spese e agli oneri di giudizio pari a 3.000 euro per un importo che complessivamente ci vede soccombenti per 111.770,81 euro costituiti da 76.000 euro circa di oneri di urbanizzazione del provvedimento del 1998 5.110 della variante e 26.098 euro di interessi da allora sottolineo i 26.000 euro di interessi qui voglio soffermarmi un secondo su di una questione ovvero che il TAR anche qui io non mi addentro più di tanto perché faccio un altro mestiere nella vita e quindi ma il TAR ha riconosciuto al Cosmic l'esenzione in quanto vi era coerenza tra la destinazione urbanistica e il fatto che c'era una destinazione a servizi e il fatto che l'attività principale era quella sportiva e quella termale solo accessoria l'amministrazione naturalmente sta valutando la possibilità di resistere perché vi è una fondamentale differenza tra il servizio pubblico che esiste nel momento in cui viene sancito da un convenzionamento nell'uso tra pubblico e privato cosa che in questo caso non c'è perché l'intervento è stato e privato e quindi non se ne capisce perché debba essere esentato dall'avversamento degli oneri e perché le diciture della loro legge 52 hanno dimostrato la loro non totale chiarezza tanto che in successivi approfondimenti e chiarimenti fatti a livello regionale sulla legge c'è stata una specifica nella dicitura che va a definire l'esenzione per opere pubbliche cioè opere che abbiano un interesse pubblico che dal nostro punto di vista in questo caso non coincidono e io avrei finito di addentrarmi nelle mie tre delibere passo quindi la parola all'assessore Moro grazie l'assessore Moro siete considerato che l'assessore Toffolo descriveva l'ultima delibera come datata qui parliamo di un contenzioso nato il 25 novembre del 1990 per cui questo è ancora più datato qui siamo sostanzialmente alla alla al ricorso in Cassazione il comune di Pordenone è stato tornato in causa dai citati cittadini per danni conseguenti ad un'esondazione avvenuta appunto il 25 novembre 1990 il comune di Pordenone è stato soccombente in due gradi di giudizio ed esattamente il 23 maggio del 2006 ha provveduto a versare il danno che era montante a 210 mila euro in questo caso poi il comune di Pordenone ha deciso di resistere la corte suprema si è pronunciata rigettando il ricorso e condannando il comune al pagamento delle spese processuali e l'ammontare totale delle spese processuali relativa a questo ricorso è di 38.864 euro e se trattandosi di ultimo grado di giudizio il comune di Pordenone deve provvedere alla corrisponzione delle spese di giudizio e si precisa inoltre che tale importo trova capienza all'interno delle pieghe del bilancio del comune di Pordenone ma non essendo previsto l'atto dell'approvazione del bilancio del bilancio di previsione deve essere riconosciuto dal consiglio comunale secondo la legge il debito fuori bilancio grazie assessore ci sono richiesti di chiarimenti prego consigliere Picin grazie presidente io volevo chiedere in riferimento alla prima delibera cioè il riconoscimento del debito fuori bilancio del policlinico San Giorgio prima l'assessore quando ha illustrato ha detto stiamo facendo le valutazioni per impugnare questo di fronte al consiglio di stato allora siccome mi pare che qui ci sia l'avvocato volevo chiedere sulla base di quali elementi si sta facendo questo tipo di valutazione e sulla prima sulla seconda che è quella relativa alla causa Breda-Bresin in parte l'assessore ha già detto che la verifica da parte degli uffici è stata avviata no? e volevo sapere se noi conosciamo insomma i tempi entro i quali questa verifica si concluderà e se la verifica dovesse concludersi con un parere da parte dei tecnici che effettivamente questa costruzione sostanzialmente non doveva essere fatta perché danneggia l'altro si dovrà procedere con l'abbattimento? Punto di domanda con la demolizione scusi assessore grazie grazie raccogliamo le domande o rispondiamo puntualmente raccogliamo le domande forse è meglio visto che deve intervenire e consigliere Cabiba prego grazie presidente io volevo sapere rispetto alla sentenza del Tar contro il policlinico San Giorgio a quanto ammontava questo contributo concessorio che il comune ha richiesto mi riferisco ovviamente a quello diciamo vecchio se così si può dire insomma il primo grazie non vedo nessun altro iscritto per controllare chiaramente perciò può assessore può rispondere grazie grazie adesso c'è l'avvocato Bressan che darà le specifiche più tecniche io specifico riguardo alla seconda allora intanto non sarebbe qualora la relazione che viene fatta internamente che prevederà una valutazione autonoma da parte degli uffici finalizzata a capire se l'eventuale demolizione non dell'edificio ma della sopraelevazione ecco solo di quel pezzetto non gli facciamo demolire la casa la casa cioè è solo una parte della sopraelevazione no non si tratta di danneggiamento dell'altro edificio nel senso che è una questione di distanza tra pareti finestrate quindi la questione è che chi ha fatto la sopraelevazione naturalmente ha fatto tutta una serie di opere strutturali per garantire la sopraelevazione che vengono messe che possono essere messe in crisi dalla demolizione della sopraelevazione per come prevista quindi l'ufficio farà l'analisi finalizzata a capire se demolito si mette in crisi l'edificio esistente che è stato sopraelevato o se l'edificio esistente non avrà dissesti a causa dell'eliminazione della sopraelevazione quindi ci si riferisce sempre allo stesso edificio perché chi è stato danneggiato è danneggiato per una distanza tra pareti finestrate a seconda delle due strade o vedrà demolita la sua parte di casa relativa alla sopraelevazione oppure pagherà l'indennizzo ecco la sanzione però si la sanatoria perché ha per legge la possibilità di demolire o dimostrando a seguito della dimostrazione che la demolizione pregiudica l'edificio pagare il corrispettivo che era già stato quantificato in 15.200 euro per quanto riguarda i tempi la si sta quasi concludendo quindi siamo quasi a fine delle verifiche che sono state fatte internamente dagli uffici sia per quanto riguarda i lavori pubblici perché hanno le competenze per fare delle verifiche statiche che per quanto riguarda la parte di materia propria per gli uffici passo la parola ecco per quanto riguarda gli elementi allora il TAR ha affermato appunto l'applicabilità in questo caso il procedimento alle norme previste dalla 2.41 dal 90 che è la legge proprio sul procedimento amministrativo e che in questo caso non ci troviamo davanti ad un atto amministrativo tipico di natura provvedimentale dove c'è quindi un'attività discrezionale della pubblica amministrazione ragione per cui sono state previste tutta una serie di comunicazioni a via del procedimento eccetera ma ci troviamo dinnanzi ad un atto che proprio tipicamente è riconosciuto dalla giurisprudenza come di natura paritetica cioè qui c'è il diritto l'esistenza del diritto o meno ad avere il contributo di concessione per cui se è un diritto soggettivo non dovrebbe trovare applicazione la 241 del 90 insomma per cui il termine di prescrizione decennale entro cui io ho diritto a che mi venga pagato il contributo insomma se c'è un termine di prescrizione non c'è un termine di decadenza proprio perché è un diritto soggettivo qui c'è una giurisdizione esclusiva del TAR ma proprio in via esclusiva non per materia perché è un diritto soggettivo non un interesse legittimo quindi stiamo valutando l'eventuale impugnazione anche alla luce di questi principi insomma per quanto riguarda l'importo siamo andati il tecnico è andato negli uffici perché tra lira ed euro in questo momento abbiamo un attimo di confusione nel senso che non ci ricordiamo se la cifra era espressa in euro in lire quindi le chiedo un attimo di pazienza è il tempo di tirare fuori le carte grazie richiesti e chiarimenti nel frattempo bene il dato possiamo acquisirlo dopo possiamo aprire la discussione bene non vedo altre richieste e chiarimenti pertanto dichiaro aperta la discussione consigliere Piccin prego sì grazie presidente ma vedere così tante delibere tutte una di fila l'altra anche se relative a tempi diversi ad amministrazioni diverse di riconoscimento di debiti fuori bilancio si fa una certa impressione devo dire la verità poi chi si trova a doverle in qualche modo trattare è all'onere quando si governa no gli onori e anche gli oneri stavo cercando però un riferimento che mi ero stampata e che insomma ultimamente ci troviamo almeno già dal 2011 ci troviamo spesso di fronte a questo tipo di situazione ripeto non certamente per colpa dell'amministrazione oppure in par non lo so colpa dell'amministrazione dice l'avvocato dell'avvocato bisogna fidarsi allora io volevo semplicemente dire a fare alcune riflessioni con ricordando le non competenze giuridiche ma la buona volontà nel cercare di capire le cose allora sulla prima delibera quella del Policlinico San Giorgio sì è vero si parla come diceva l'avvocato della legge 241 però vengono evidenziati qui nella sentenza quattro motivi perché non poi la questione va a finire ci danno torto sostanzialmente allora dico solo che senza voler insegnare il mestiere a nessuno e visto che poi alla fine tra tutte le delibere ci siamo trovati anche ad un giudizio finale al quale non possiamo più ricorrere l'ultima è una Cassazione seppur risalente tanti anni fa di valutare come dire attentamente il fatto di questi ricorsi perché è vero il diritto qui nel nostro paese quello amministrativo e tutti quanti i diritti si prestano come gli elastici ad essere tirati però quando si seguono gli interessi dei cittadini e magari non è proprio del tutto da sottovalutare il fatto che adesso noi andiamo qui a rimborsare mi sembra di capire 5.000 euro non vorrei che alla fine della fiera con spese legali ci dessero torto ancora una volta e anziché 5 ci trovassimo 15 o 25 sulla questione di Breda Bresin mi ha fatto un po' specie vedere che il comune di qualunque amministrazione fosse qualunque periodo fosse non ha fatto quello che doveva fare perché qui dice chiaramente aveva in vero il dovere di verificare per suo conto con autonomo accertamento tecnico se l'assunto del controinteressato fosse o no fondato allora mi sembra che questo forse avremmo potuto evitarlo sulla questione invece della del Cosmic ho cercato di seguire bene quello che ha spiegato l'assessore e mi aveva incuriosito tant'è che sono andata a fare una ricerca quando avevamo fatto la commissione che aveva parlato l'assessore anche qui non ho capito bene se poi su questo si ha intenzione di ricorrere o no mi sono persa questo pezzo ma mi pareva di aver capito di sì però io ricordo solo una cosa leggo ho stampato il testo storico della legge regionale 52 del 91 che poi è vero come ha detto l'assessore è stata è stata modificata nel 2007 è stata modificata e questo Comacca è stato abrogato però io che non sono un giurista leggo e mi sembra chiaro perché dice che il contributo di cui è l'articolo 90 comma 1 cioè quello di cui stiamo parlando non è dovuto per Comacca dice per le attrezzature sportive da realizzare da privati dice qui in zona tal fine destinata allo strumento urbanistico vigente se loro avevano avuto la variazione urbanistica mi sembrerebbe forse sbaglio io ad interpretare ma mi sembrerebbe prego ma ha cambiato nel 2007 sì ma assessore ma questa fa riferimento ad allora la vicenda e le leggi non hanno effetto retroattivo mi pare di ricordare dagli elementi delle fonti del diritto ma io non insisto certo avrà cambiato successivamente ma la vedo dura riuscire ad andare a dire che quella norma modificata nel 2007 valeva prima prego no vabbè non importa io non faccio mica l'avvocato qua dico quello che penso e quello che leggo ci mancherebbe altro poi ci saranno gli avvocati i giuristi però io anche in questo caso la vedo un po' la vedo un po' dura sull'altra questione beh c'è una sentenza della Corte di Cassazione che sostanzialmente ci ha dato torto credo che qui non abbiamo proprio più nulla da poter dire ci tocca pagare per una cosa vecchissima registro però alla fine di tutto questo che chi lavora e amministra sicuramente può sbagliare succede e questa non vuole essere una condanna da parte mia ma la sottolineatura sul fatto che quando queste attività o questi ricorsi vengono fatti perché se siamo arrivati in Cassazione all'ultimo grado vuol dire che ricorsi li abbiamo fatti probabilmente se ci fossimo fermati prima avremmo risparmiato un po' di soldi grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente sì anch'io dico un attimo la mia sarà molto simile a quanto espresso dalla mia collega PC dalla mia capogruppo e quindi riguardo alla in particolare un primo mi soffermo sul caso della Cosmic è stato ben detto sono 26.000 euro di interessi praticamente gettati al vuoto e mi pare di capire che se ne vogliono spendere altri di interessi oltre che ancora ulteriore spese ecco ho letto anch'io l'articolo di legge e mi sembra piuttosto chiaro il fatto che sia stata cambiata dopo è un altro paio di maniche ma il diritto che risulti a me non è mai retroattivo salvo nella sentenza Berlusconi che non si sa perché ma detto questo in questo caso mi sembra evidente che si facciano battaglie contro Molini a vento riguardo invece alla questione del policlinico anche lì ci si intestardisce su una questione che poi probabilmente porterà a pagare ancora le casse del comune e quindi sempre i cittadini per un qualcosa che per dieci anni è stato concesso e che quindi praticamente poi risultava così ormai assodato se poi si è deciso di cambiare insomma però ci è stato detto con sentenza che anche lì il comune è in torto io a questo punto farei una riflessione visto il numero di cause che il comune perde di dire anche basta perché i cittadini hanno già pagato abbastanza grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego silenzio grazie grazie presidente io non entrerò nel dettaglio delle cause primo perché ritengo scusa no assolutamente no dico non entrerò nel dettaglio primo perché ritengo che ci sia qualcuno che legittimamente approfonditamente le ha guardate le ha valutate e secondo perché bisogna bisogna avere conoscenza di tutto lì il processo il percorso quindi nessuno meglio dei professionisti che hanno seguito degli uffici interni che hanno valutato la questione può dare un giudizio di opportuno e ponderato però io vorrei fare una riflessione che ho già fatto più di qualche volta in quest'aula ed è quello che pare emergere che siamo lo ripeto un'amministrazione anzi siete perché siete voi l'amministrazione assolutamente battagliera e spesso molto spesso fuori luogo sarebbe facile mi spiace non c'è l'assessore Zille che mi aveva risposto una volta sarebbe facile adesso lo faccio parecchie volte e lo dico parecchie volte dire abbiamo perso ancora continuiamo a perdere l'altra volta l'assessore Zille mi aveva risposto e beh certo perché in consiglio arrivano solamente quelle che perdiamo e non quelle che vinciamo quando poi gli chiesi scusa ma quant'è l'importo di quelle che vinciamo sono assolutamente spiccioli poi andiamo a perdere quelle per centinaia e migliaia di euro però questa è una riflessione che ci tenevo a lasciare il concetto qual è qual è assessore parlo con l'essore mazzia principalmente ma potrebbe un po' con tutta l'amministrazione il concetto a mio modo di vedere di fondo che forse è quello che ha cercato di esprimere che hanno espresso benissimo sia la consigliera Piccin che il che Riccardo che consigliera Piccinato deve essere almeno per come l'ho capito io un no volersi intestardire ad ogni costo ad ogni costo in qualcosa in un'idea prima l'è stato fatto notare giustamente dalla consigliera Piccina nel modo di vedere ma guarda che al tempo in cui al tempo in cui c'era e sono stati fatto questi atti la legge regionale era diversa e lei ha detto poi perché l'hanno cambiata ma non è una risposta a dare assessore ma non è un assessore ma lei cerchi di capire quello che voglio dire è questo ed è questo benissimo ed è questo il concetto che le dico è questo quello che sto dicendo un'amministrazione che non deve essere belligerante un assessore non dovrebbe rispondermi poi perché hanno cambiato la legge dovrebbe fermarsi a dirmi se a quel tempo la legge pur se è fatta male pur da criticare chiama come vogliamo era quella l'amministrazione deve essere dalla parte del cittadino e dei cittadini della tutela degli interessi di tutti i cittadini quindi non può andarmi a sindacare se l'ha fatta bene o se l'ha fatta male l'amministrazione deve dire c'è una lesione ci spetta andare a recuperare quei soldi bene li andiamo a prendere non ci spetta non lo facciamo perché siamo l'amministrazione di tutti i cittadini questo io l'ho già detto altre volte io l'ho già detto il mio modo di vedere mi avrebbe da dire la causa Natalucci a me io ho sempre riconosciuto una persona secondo me di una grande onestà intellettuale francamente mi ha lasciato sconcertato quando lei venne in commissione e ci parlo forse ancora l'amministrazione precedente la giunta precedente e lei venne in commissione e disse qui il privato ha ragione e poi siamo andati ad appellare la causa allora io francamente resto sconcertato sì no no lei disse così lei disse il privato ha ragione dopo di che vabbè comunque e siamo andati allora il discorso è è giusto andarsi a incapponire e a rischiare di prendere mazzate mazzate di spese legali io prima ho chiesto all'avvocato ma scusa perché mi ero distratto un secondo è corretto è corretto quello che la valutazione che ha fatto il TAR stiamo discutendo credo delle basi diritto soggettivo interesse legittimo allora se un tribunale amministrativo di primo grado il tribunale amministrativo regionale che per carità è fatto da uomini può sbagliare perché possiamo sbagliare tutti non solo mi dà torto ma mi dà anche 4.000 erotte euro di spese legali parlando delle basi del diritto amministrativo cioè la differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo io dico viva Dio può sbagliare ma forse non è cioè non è che sta risolvendo la questione di diritto particolarmente controverso cioè non so se mi sono spiegato allora un invito che faccio a questa amministrazione da cittadino prima che da consigliere vediamo di essere più della parte veramente dell'interesse di tutti i cittadini non incapponitevi su battaglie prive di senso solo perché dovete dovete dire noi non sbagliamo mai ecco questo è il concetto e l'idea che volevo lasciare grazie quindi non appellate grazie consigliere Ribetti consigliere Cabibbo prego sì grazie presidente naturalmente non si può entrare nel merito di queste sentenze perché chi fa il mestiere del legale sa bene quanto e quali siano le problematiche all'interno di una di una causa e che comunque poi le sentenze trovano sempre il loro fondamento in quello che è lo sviluppo di un intero percorso però non possiamo comunque discutere di queste delibere senza tenere conto dei tempi in cui queste sentenze e questi processi si sono sviluppati perché qui noi abbiamo la causa del Cosmic che sostanzialmente riguarda un provvedimento del 98 e che arriva a dicembre 2013 e sono 15 anni con 26.000 erotti euro di interessi legali calcolati dal 99 di questo chi dobbiamo ringraziare dobbiamo ringraziare il comune di Pordenone che credo legittimamente ha resistito rispetto ad un'impugnazione o dobbiamo ringraziare una giustizia che crea danno a se stessa cioè crea danno all'amministrazione pubblica nel momento in cui ci vogliono 15 anni per avere una sentenza di questo tipo sì non voglio fare Alice nel Paese delle Meraviglie però credo che una riflessione su questo vada fatta su questa giustizia amministrativa che ci impiega 15 anni per fare una sentenza non credo adesso non l'ho chiesto nei chiarimenti che questi processi abbiano avuto degli iter particolarmente burrascosi con ecco no ma lasciamo stare gli esiti perché ripeto non è di questo che ci dobbiamo preoccupare in consiglio comunale di questo si preoccuperà l'amministrazione si preoccuperanno gli uffici io mi preoccupo di una giustizia che ci impiega 15 anni a dare una sentenza nel caso del policlinico San Giorgio anche qui parliamo di provvedimenti del 98 ovvero che sono stati tirati fuori allora già è un'anomalia italiana quella di avere una giustizia amministrativa cioè di avere un organo giudiziario che non è quello ordinario per giudicare la legittimità di un provvedimento della pubblica amministrazione ma tant'è non possiamo cambiare ma vorrei far presente ai consiglieri che ripeto non in tutti i paesi evoluti in ambito del diritto c'è una giustizia amministrativa la giustizia amministrativa in questo paese si occupa della legittimità o meno degli atti ma ormai sempre di più dietro un atto della pubblica amministrazione più che la lesione di un interesse legittimo c'è la lesione eventuale di un diritto soggettivo come giustamente faceva anche notare prima l'ufficio legale del comune quindi dico ha senso ha senso per quanto riguarda il discorso del policlinico San Giorgio soltanto una battuta tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino allora qui francamente una riflessione si potrebbe fare sulla opportunità del comune di Pordenone che va a pur nella legittimità in quanto non era intervenuta la prescrizione ma va a ripescare un provvedimento del 98 per chiedere qualcosa salvo poi ottenere una risposta negativa da parte della giustizia ad essere condannata alle spese non so se è arrivata nel frattempo la notizia di quanto fosse l'on il contributo concessorio dovuto al comune credo comunque che il valore fosse sostanzioso quindi comunque andava sicuramente non ad incidere rispetto all'opportunità di fare o meno la causa il problema è appunto a monte come hanno sottolineato anche altri colleghi ma non tanto per le leggi che nel frattempo sono cambiate o altro ma quanto perché una pubblica amministrazione che va con permettetemi questo termine ma con malizia a chiedere qualcosa di molto molto tempo prima non mi dà l'impressione di una pubblica amministrazione corretta ripeto qui noi in forza di una citazione fatta dalla controparte siamo andati a chiedere qualcosa che legittimamente probabilmente si riteneva dovuto però ecco ripeto è questo un atteggiamento di una pubblica amministrazione che collabora con il cittadino o è l'atteggiamento di una pubblica amministrazione vessatoria che cerca di far cassa sempre di più per mantenere le macchine e le strutture di cui si è dotata ecco io credo che questa sia un po' la riflessione da fare ripeto sulle sentenze ovviamente sono delle sentenze quindi vanno rispettate vanno applicate pertanto preannuncio che il voto sarà un voto di astinzione grazie consigliere non vedo nessun altro iscritto è arrivato il dato l'ho data adesso va bene comunque allora dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo intervento consigliere Piccinato prego solo una piccola piccolissima precisazione ho ascoltato attentamente le parole dell'assessore e dalle sue stesse parole si evince che la legge nella questione del Cosmic fosse a favore dei privati questo significa che sostanzialmente anche l'assessore riconosce che il privato ha ragione chiudo qui va bene grazie consigliere Tomasello prego niente io intervengo il mio intervento sarà molto molto breve ad eccezione forse dell'intervento del consigliere Cabibo che condivido pienamente perché anch'io denuncio e la prova approvata sono proprio queste deliberazioni queste sentenze di una giustizia che c'è in Italia una giustizia lenta una giustizia amministrativa lenta e forse neanche necessaria il mio intervento sicuramente non ha una natura tecnica ma dovrebbe avere una natura politica anche se sinceramente vi dico che mi è difficile di fare un ragionamento politico ma ascoltando specialmente i consiglieri Ribetti il consigliere Piccinato mi sembra che la loro posizione intervento dal punto di vista politico è quello che l'amministrazione a suo tempo le presenti amministrazioni ricordiamo che si riguardano fatti che degli anni 90 98 quindi penso giunta Pasini e le giunte precedenti cioè le presenti amministrazioni dovevano scegliere politicamente di non costituirsi perché qua noi siamo resistenti quindi dovevamo per forza costituirsi quindi non è che perché dobbiamo tutelare anche in questo modo va tutelato anche in questo modo il cittadino quindi se questa è la vostra scelta politica io ribadisco che quando c'è un ricorso noi dobbiamo costituirci purtroppo le vicende processuali non sono state favorevoli però come ha specificato bene nelle delibere chi le ha redatte sono stati fatti è stato successo qualcosa di imprevedibile anzi sono stati anche stravolti degli orientamenti poi per quanto riguarda il contenzioso mi sembra che in questi ultimi anni appunto parlando anche di informare all'ufficio legale che il contenzioso sia anche diminuito quindi non è vero consigliere Ribetti che questa è un'amministrazione litigiosa mi sembra che l'80% correggetemi poi mi corregga l'amministrazione dopo eventualmente nella replica l'80% delle controversie sono anche state vinte da questa amministrazione mi sembra che sia stata fatta ultimamente un controllo quindi ribadiamo quindi la massima fiducia all'amministrazione un ringraziamento particolare all'ufficio legale che sicuramente troverà farà le sue valutazioni relativamente al fatto se impugnare o non impugnare questi provvedimenti che possono essere impugnati io anticipo già la dichiarazione del voto per 2-4 le delibere del partito democratico del mio gruppo che è un voto favorevole grazie grazie consigliere consigliere ribetti prego grazie presidente guardi mi sarei risparmiato volentieri il secondo intervento però quando mi invitano a ballare preferisco ballare piuttosto che far ballare gli altri da soli perché bene consigliere Tommasello forse ha centrato fu quel problema però forse l'ha guardato la parte sbagliata ci credo che ci hanno portato in causa ma direi io ha ragione ci hanno portato in causa perché se dopo il tribunale gli ha dato ragione evidentemente questa è la prova è la maggior prova che forse il privato tutto il torto non ce l'aveva perché prima di portarci in causa ce l'avrà chiesti quei soldi in qualche maniera avrà cercato in qualche maniera di far emergere la correttezza della propria posizione quindi se il comune è stato sordo qualsiasi fosse il colore politico di quell'amministrazione qualsiasi perché io a differenza di qualcuno non faccio differenza quando sbagliano i miei in quest'aula l'ho detto più di una volta abbiamo sbagliato l'ho invitato mi ricordo ancora qualche altra volta quando c'era forse contento non mi ricordo a intervenire per portare il carcere in città intervenire per altre questioni a differenza di qualcun altro che forse si difende dietro i colori di partito quindi quando sbagliamo noi lo riconosco se hanno sbagliato amministrazioni precedenti di colore diverso dalla vostra la mia lamentela va nei confronti di quelle amministrazioni però va anche nei confronti delle amministrazioni che hanno continuato e stanno anche valutando ulteriormente se fare o non fare ricorso io semplicemente chiesto un buon senso all'amministrazione quindi quando lei mi dice consigliato Masello che il comune non è che non dovesse costituirsi dico evidentemente forse privato tutti i torti non li aveva perché se un primo grado gli ha dato ragione forse non stava parlando di frittelle cavoli a merenda forse un minimo di fondatezza la sua pretesa ce l'aveva ecco quello che chiedo un'amministrazione all'amministrazione della mia città e l'ho detto prima prima di tutto come cittadino quindi come soggetto che qualcosa paga di tasse quindi vorrebbe forse vederlo gestito per cose più utili il denaro piuttosto che in battaglie pretestose è questo il buon senso prima di decidere è chiaro che se poi ci sono degli interessi da tutelare devono essere tutelati perché sono degli interessi di tutti i cittadini ecco quindi vorrei che le mie parole fossero ascoltate prima di essere portate ad esempio e citate grazie grazie consigliere bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiusa la discussione do la parola all'amministrazione per le eventuali repliche grazie presidente inizio io e poi continuerà l'assessore competente in materia perché ben mi guardo da entrare anch'io nel dettaglio anche visto che la discussione si è molto sviluppata tra gli avvocati presenti in consiglio e io non mi addentro ve la fate tra di voi però non mi addentro in questi territori che per me sono francamente ostici mi sento però di fare alcune specifiche beh innanzitutto rispondo al consigliere Cabibbo relativamente alla questione del Cosmic è vero che questa è una causa che inizia nel 98 però mi specificavano gli uffici il primo loro ricorso era stato rigettato poi lo hanno è stato considerato inammissibile poi è stato ripresentato da loro poco prima della prescrizione? no insomma poco prima che questo che scadessero i termini di conseguenza è questo che ha portato molto a lungo questa questa causa certo è invece che per quanto riguarda il policlinico il nostro agire è stato susseguente al fatto dell'aver vinto la causa relativa all'ampliamento del 2008 dove il Tar ha riconosciuto la validità della richiesta del versamento degli oneri non erano altrimenti non sarebbero non saremmo andati e non erano scaduti dei termini di prescrizione allora per chiedere il versamento che era pari a 42 mila e passa euro quelli della prima concessione però ecco mi ha distratto stavo per dirle una cosa comunque inizia appunto alla prima sua domanda il versamento degli oneri di allora era pari ai 42 mila euro e c'è stata la loro in pratica autodenuncia relativamente a quel non versamento in quanto nella loro costituzione in giudizio loro portavano come prova il non aver versato gli allora oneri dovuti cosa che poi è risultata in contraddizione col fatto che noi si sia vinta la causa sulla legittimità del chiedere gli oneri e qui io mi fermo perché per me iniziano a essere terreni difficili però mi sento anche di dire e di far presente una questione perché passa sempre molto l'immagine di questo comune come un comune litigioso che sembra quasi agire a discapito dei propri cittadini secondo me invece quello che l'amministrazione deve fare è proprio quella del tutelare i diritti dei cittadini e farlo mettendoli tutti nella stessa condizione per questo riuso una slide che aveva mostrato già in presentazione di bilancio l'assessore Mazzer competente che fa vedere come dal 2002 ad oggi il numero delle cause nel comune di Pordenone sia dal mio punto di vista sostanzialmente diminuito partiamo da 266 cause nel 2002 a 69 cause nel 2013 con un trend di decrescita costante dei provvedimenti all'interno del nostro comune ma questa azione che è stata costante negli 11 anni passati si è analizzata un po' più scusate ho sbagliato si è analizzata un po' più nel dettaglio per quanto riguarda ci posso riuscire ce l'ho fatta gli ultimi anni vediamo che negli ultimi anni sono state discusse 94 cause di cui dal primo giugno 2011 al 22 maggio del 2014 sono state discusse 94 cause di cui 75 con esito definitivo favorevole che vuol dire l'80% delle cause il 13 con esito definitivo sfavorevoli pari a un 14% e 6 con altro esito pari a un 6% vuol dire che sono cause che hanno visto una conciliazione o altre situazioni e se poi vedo nel dettaglio quelli che sono gli importi che l'amministrazione ha visto o risparmiati o restituiti all'amministrazione stessa a seguito delle cause che si sono concluse con esito favorevole non posso che dire che questi non sono contravvenzioni sono cause sostanziali nei loro importi tipo ad esempio i 600 mila euro della causa Natalucci come lei prima citava che abbiamo vinto oppure i 300 mila euro per la progettazione del teatro Verdi oppure insomma c'è tutta un'istruttoria certo quindi mi sembra che l'interesse pubblico questi dati dimostrino che è stato perseguito non solo negli ultimi anni ma negli ultimi 11 anni è stato un lavoro puntuale a favore della pubblica amministrazione e quindi dei cittadini costante e definito del quale possiamo ringraziare gli uffici competenti e l'amministrazione che ha lavorato in questa ottica passerei la parola all'assessore si molto brevemente mi pare che abbiamo discusso in sostanza di due situazioni diverse una che riguarda la struttura ospedaliera privata del policlinico è chiaro che mai e poi mai gli uffici sarebbero andati a riprendere una pratica di dieci anni fa se non fosse intervenuto un fatto nuovo e il fatto nuovo è che proprio il TAR dice guardate che gli oneri di urbanizzazione per una struttura ospedaliera privata sono dovuti a quel punto gli uffici che hanno recepito questa risposta e rispettato questa risposta del giudice che interpreta la norma si chiedono ma noi di quello che è l'arretrato non è andato in prescrizione cosa facciamo facciamo finta di niente o correttamente solleviamo il problema perché per noi è importante che la norma si applichi correttamente per tutti nella stessa maniera non la discutiamo se è giusta o sbagliata vediamo di applicarla correttamente e una volta che il TAR ha dato l'interpretazione quella è l'interpretazione che dobbiamo dare anche noi quindi andiamo a vedere se c'erano dei progressi che non si siano prescritti e semplicemente li solleviamo correttamente per non mettere la polvere sotto il tappeto ovvio che adesso che il giudice ha dato una risposta che quei dieci anni lì sono troppi per andare a recuperare quei soldi ci mettono in una condizione anche più favorevole nel dire non si tratta più di commettere un danno erariale se non solleviamo il problema perché un giudice si è espresso e quindi diventa l'opportunità nostra di capire se è giusto o meno fare un ricorso ma diventa una scelta di opportunità anche politica diverso il discorso invece per quel che riguarda il Cosmic e noi vorremmo trattare anche qua tutti uguali il Cosmic come il Mare 1 come le altre strutture cioè non è che si può a uno perché non ha fatto ricorso li facciamo pagare e a quello che facciamo ricorso li restituiamo i soldi dobbiamo capire qual è la corretta interpretazione della norma norma che è regionale a livello nazionale non esiste a livello nazionale il Cosmic avrebbe pagato e non avrebbe trovato nessuna norma che gli consentiva di non pagare è evidente che il legislatore ha fatto una norma per agevolare quelle che sono le strutture che vengono dedicate all'attività dell'etantistica sportiva convenzionata ed è evidente che ha scritto la norma non precisando perfettamente quella che era l'intendimento finale il problema non è perseguire il Cosmic e trattare il Cosmic come il Mare 1 e noi ogni tanto abbiamo l'obbligo di essere di interpretare la norma in maniera uguale per tutti e questo è un problema non soltanto di natura economica ma anche etica morale cioè immaginate che noi non trattiamo i cittadini in tutta la stessa maniera è un principio fondamentale dobbiamo attenerci a questo allora o restituiamo anche agli altri oppure verifichiamo se la norma ha una effettiva sussistenza ha un'effettiva ragione per la quale effettivamente ha una struttura privata sportiva che fa anche altre attività non si deve chiedere gli oneri di urbanizzazione mi pare che secondo alcuni si dice no non andate avanti fermatevi qua nel senso allora secondo me bisogna restituire anche agli altri oppure andiamo fino in fondo e poi vediamo qual è l'esatta interpretazione della norma io vi dicevo prima perché il legislatore ha cambiato ha cambiato perché si è reso conto di una struttura di una difficoltà interpretativa e ha voluto dare un'interpretazione più precisa possibile che è giusta è corretta come viene interpretata adesso forse non scritta in maniera molto precisa in passato ha dato adito a interpretazioni diverse che secondo me non ci devono essere perché tutti quelli che abitano in questo territorio comunale devono essere trattati della stessa maniera grazie grazie assessore Mazza bene passiamo allora alla fase di votazione come vi dicevo all'inizio le dichiarazioni di voto devono rimanere distinte pertanto adesso focalizziamo l'attenzione sulla proposta di deliberazione numero 18 del 2014 pertanto chiedo chi vuole fare le dichiarazioni di voto deve prenotarsi Piccin prego grazie presidente ma a lucro di tempo per la verità io farò una dichiarazione di voto unica così poi non parlerò più nel dire che ho ascoltato le spiegazioni ascoltato le indicazioni e anche i dati che ci sono stati proiettati lì e a proposito delle cause vinte mi fa piacere che siano l'80% e mi fa piacere che poi si chiederanno chiederemo chiederò i dettagli insomma di quali sono così sostanziose perché si citava prima a quella di Natalucci allora io ho rispolverato quello che era successo perché era il 2011 e nel 2011 noi abbiamo perso sei cause di fila per un totale o insomma perse insomma abbiamo raccolto sei cause tutti assieme per un totale di due milioni di euro siccome mi ricordavo che c'era qualcosa non lo so delle nostre delle deliberazioni il nostro voto sulle deliberazioni su tutte sarà contrario non tanto perché noi dobbiamo riconoscere o non riconoscere essere d'accordo o non essere d'accordo sui debiti fuori bilancio ma quanto su ciò che voglio dire l'amministrazione da adesso in avanti vuole fare ovvero per quanto mi riguarda il discorso relativo ai ricorsi vede Assessore lei ha fatto adesso alla fine e chiudo un discorso che io condivido lei dice noi vogliamo che tutti vengano trattati allo stesso modo è lo stesso principio di equità le dice quello che ha fatto il ricorso sì e gli altri no è lo stesso principio di equità che applichiamo all'interrogazione che ho fatto prima al circo che ha fatto ricorso sì e se non avesse fatto ricorso punto di domanda allora la misura è sempre la stessa a mio modo di vedere e per questo motivo il voto sarà contrario grazie su tutte le delibere non mi pronuncerò oltre grazie consigliere nessun altro iscritto per la dichiarazione di voto ribetti prego speravo di arrivare prima guardi assessore io l'ho sempre detto e lo ribadisco anche in questo momento in questa sede non condivido questa quanto quello che è l'atteggiamento di questa amministrazione su queste su come gestisce su come si pone forse come si pone nella gestione degli interessi nella gestione soprattutto di queste cause legali quindi io queste tre il mio voto il mio gruppo stasera sono da solo sarà un voto contrario delle quattro tre quattro tanto però però ci tengo a ribadire tutto quello che ho detto prima attenzione perché gli interessi sono interessi di tutti siate un'amministrazione ben un battagliera assessore lei mi fa vedere le slide se prima di voi hanno fatto più guerre se qui veniva prima di voi faceva tantissime cause voi non è che dovete per forza farle dovete fare quelle che li tenete giusti per la tutela di tutti non è che è una guerra dei numeri grazie grazie consigliere bene dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comuni chiedere avvio le procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 18 2014 sentenza del tribunale amministrativo regionale periferi di Venezia Giulia numero 106 2014 nella causa comune di Pordenone Policlinico San Giorgio S.P.A. riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 5 astenuti 4 la deliberazione la deliberazione è approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuse le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 5 la comunico che l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla deliberazione numero 19 chiedo anche in questo caso se sono dichiarazioni di voto non ce ne sono passiamo pertanto alla votazione pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 19 2014 sentenza del tribunale amministrativo regionale per riferire Venezia Giulia numero 646 2013 nella causa comune di Pordenone Claudio Breda Renato Bresin riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 24 contrari 5 astenuti 4 la deliberazione è stata approvata pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 24 contrari 4 astenuti 5 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile passiamo ora alla proposta numero 20 2014 nessuna dichiarazione di voto pertanto passiamo alle operazioni sentenza del tribunale amministrativo regionale per i friuli Venezia Giulia numero 649 2013 nella causa comune di Pordenone Cosmix SRL riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 22 contrari 5 astenuti 6 l'atto estenuti 7 la deliberazione di voto pongo ora ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 22 contrari 4 astenuti 7 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla votazione a proposta numero 21 chiedo se ci sono dichiarazioni di voto non ce ne sono pertanto pongo in votazione a proposta numero 21 2014 sentenza della Corte di Cassazione numero 4804 del 5 novembre 2013 nella causa comune di Pordenone Santin Alessandro e altri spese di giudizio riconoscimento debito fuori bilancio dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è la seguente presenti 33 votanti 32 maggioranza 17 favorevoli 21 contrari 5 astenuti 6 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito la votazione è la seguente presenti 33 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 22 contrari 4 astenuti 7 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta 22 del 2014 approvazione progetto della nuova destinazione d'uso di palazzo badini e contestuale adozione della variante numero 130 al piano regolatore generale comunale della variante numero 1 al piano di recupero numero 6 di corso garibaldi ai sensi del coma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19 2009 assessore Toffolo prego grazie grazie signor presidente con questa variante proponiamo l'approvazione della cambio in pratica di destinazione d'uso per palazzo badini cambio che viene recepito contestualmente all'interno del piano regolatore generale del comune di Pordenone e del piano di recupero relativo a corso garibaldi palazzo badini è conosciuto a tutti si tratta di uno dei palazzi più rappresentativi per la nostra città dei quali passo rapidamente a fare una breve storia come finalità quanto meno nel 2011 palazzo badini è stato assegnato in concessione gratuita al consorzio di Pordenone per la formazione superiore e questo perché a seguito dell'acquisizione e di un finanziamento erogato dalla regione tale edificio entrato nel patrimonio comunale dovesse vedere la collocazione della sede universitaria in un palazzo prestigioso nel centro e nel cuore della nostra città successivamente nell'aprile del 2012 a seguito del contesto di crisi economica e della rivisitazione dei programmi e del contenimento della spesa il consiglio d'amministrazione del consorzio ha deliberato e dato quindi mandato al presidente di chiudere la sede di palazzo badini questo è stato recepito dalla giunta regionale con delibera del 2013 relativamente all'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione all'uso di università per tale immobile e quindi obbligando quindi il comune a mantenerlo però come università fino al primo settembre del 2013 nel febbraio del 2014 il presidente del consorzio ha formalmente comunicato al comune la propria volontà di prevenire la risoluzione anticipata della convenzione e di conseguenza la giunta comunale nel febbraio del 2014 ha accolto la ricoglienza di risoluzione anticipata del contratto e ha accolto contestualmente la proposta del settore attività culturali e ricreative e sportive di autorizzare il trasferimento nel palazzo dell'agenzia turismo Friuli Venezia Giulia che all'epoca era ospitata in una sede di proprietà comunale sita identificata nel basamento della biblioteca in locali collocati nel basamento della biblioteca comunale tale modifica nella destinazione essendo inferiore al 25% della superficie totale dell'immobile era compatibile urbanisticamente non di meno però l'amministrazione ha voluto aprire un ragionamento su quella che era la possibilità di utilizzo di tale edificio riconoscendovi in esso un senso di rappresentatività per l'intera città congruo con una destinazione che vedesse la compresenza sia dell'agenzia turismo Friuli Venezia Giulia che di sedi associative importanti come proposta turistica e culturale per il nostro territorio urbano in questa planimetria vedete quella che è la parte redatta dagli uffici tecnici dei lavori pubblici nei quali vengono identificate le aree e gli ambiti previsti in utilizzo a turismo FVG che vedono l'interessamento di parte dell'androne a piano terra che quindi diventa una vetrina per il turismo della città e della provincia aperta su piazza Cavour e dei locali di servizio più altri due uffici al secondo piano come si può notare ed era un argomento uscito anche in commissione quindi ne do ora anche risposta la sala convegni non viene destinata a turismo FVG in quanto nell'ottica di utilizzo e della destinazione che urbanisticamente viene riconosciuta a tale edificio debba poter essere data in gestione e in utilizzo scusate a tutti coloro ne facciano richiesta in modo da essere effettiva vetrina culturale per le attività del nostro comune quindi a seguito di tutto quanto prima descritto con la presente delibera si propone la modifica della destinazione d'uso dell'immobile sia nel piano regolatore che nel piano di recupero specifico da sede universitaria a attrezzature e servizi per la cultura di interesse sovraccomunale in modo che in essa appunto possano trovare collocazione sia gli uffici di turismo FVG che in un futuro sedi di associazioni e di organizzazioni che hanno rilevanza per lo sviluppo turistico e culturale del nostro tessuto naturalmente si è proceduto in fase di redazione della variante alla verifica di tutti quelli che sono gli standard indotti dalla nuova destinazione che trovano perfetta rispondenza in quelli già identificati dalla destinazione in essere quindi la variante risulta compatibile con quelle che sono le previsioni in essere grazie presidente grazie assessore ci sono già l'aula è in situazioni precarie o a destra o a sinistra dobbiamo fare il lavoro socialmente utile ai due consiglieri ci sono richieste di chiarimenti non vedo prego consigliere Giannelli chiarimenti prego assessore in sede di di commissione ma anche mi risulta il quartiere aveva detto facciamo in modo che nella dicitura ci sia una frase qualcosa che dà consente all'amministrazione di ospitare non solo eventi culturali ma tutto ciò che poi il consiglio comunale o la stessa amministrazione pubblica intenderebbe portare io nella dicitura della variante sia PLG che piano non ho trovato questa perché si parla espressamente cultura vuole rispondere subito ossessore o facciamo prego 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 risponda pure noi abbiamo fatto una verifica con gli uffici abbiamo visto che nella nostra dicitura di cultura ci sta tutto il cappello delle anche manifestazioni che possono essere di carattere sportivo e di conseguenza era la più ampia che ci garantiva un utilizzo completo di questa struttura per quello che è la valorizzazione del nostro territorio consiglio ripeti chiarimenti anche lei sì prego volevo capire assessore se potete spiegarmi un secondo come avverrà la distribuzione interna degli spazi cioè turismo FUG prenderà se non ho capito ma due sedi cioè due sale e il resto poi vengono concesse ad associazioni in base a richiesta non so per capire grazie allora specificando che qui si tratta di variante urbanistica e quindi qui c'è solo il cambio della destinazione d'uso non tanto quelle che saranno le modalità con le quali gli affici preposti che sono l'ufficio cultura e patrimonio vedranno nell'attribuzione delle sedi quello che per ora è certo è che gli spazi in grigio sono quelli destinati a turismo FUG e che sono l'androne a piano terra e salta l'androne a piano terra e due uffici al secondo piano poi compatibilmente con cioè in linea con quella che sarà che è la destinazione prevista dalla variante urbanistica appunto i settori faranno una manifestazione di interesse a seguito della quale verranno assegnati gli spazi ma è una partita che verrà giocata solo a seguito della e quindi congruemente con quella che sarà la nuova destinazione grazie consigliere Cabibbo sì grazie presidente ben già con questa risposta l'assessore Toffolo ha fugato diciamo un attimo un dubbio però volevo chiedere se appunto all'interno della dicitura attività culturali è prevista la possibilità ad esempio per il comune di Pordenone di destinare una sala all'interno dell'edificio per la celebrazione dei matrimoni civili che vengono fatti in comune oppure se questo non rientra fra le varie attività indipendentemente dalla destinazione urbanistica noi le sale sul territorio preposte per la celebrazione dei matrimoni le inseriamo in un'altra in una delibera specifica che indica dove possiamo celebrare i matrimoni non è incompatibile per legge non è incompatibile sì sì si potrà fare non è incompatibile con la destinazione sì infatti anche San Francesco ad esempio è una delle sale come la cartiera del parco di San Valentino però anche San Marco ma quello non rientra nella delibera consigliere Germani però c'è una delibera a parte che identifica i luoghi bene grazie bene nessun'altra richiesta dichiaro pertanto aperta la discussione non vedo nessuno iscritto va beh passiamo pertanto al secondo intervento nessuno iscritto tanto dichiaro chiusa la discussione nessuna replica amministrazione vista non c'è stata discussione passiamo alla dichiarazione di voto scusate un attimo di attenzione dichiarazione di voto nessuna dichiarazione di voto consigliere Giannelli prego no va bene dichiaro chiusa anche la dichiarazione di voto pertanto passiamo alle votazioni comunico e dare avvio alle procedure di votazione pongo in votazione la deliberazione avete il seguente oggetto proposta numero 22 2014 approvazione progetto della nuova destinazione silenzio approvazione progetto della nuova destinazione d'uso di palazzo badini e contestuale adozione della variante numero 130 al piano regolatore generale comunale e della variante numero 1 al piano di recupero numero 6 di corso garibaldi ai sensi del coma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19 2009 dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto esito della votazione è il seguente presenti 34 votanti 30 maggioranza 16 favorevoli 25 contrari 3 astenuti 2 la delibera viene approvata pongo ai voti la similata eseguibilità dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro 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 chiuse le operazioni di voto votate dichiaro chiuse le operazioni di voto esito la votazione seguente presenti 34 votanti 31 maggioranza 21 favorevoli 25 contrari 4 astenuti 2 la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 23 2014 acquisizione gratuita di una piccola porzione di area di proprietà della regione frio e venezia giulia informo i consiglieri che la documentazione disponibile è presso la segreteria presso il banco la segreteria parola assessore moro c'è una slide se possibile no quella successiva ecco esatto allora qui stiamo parlando di un'area residuale un bene incensito del quale una parte quello l'intera l'intero l'intera area una parte viene acquisita dal comune di Pordenone e una parte viene concessa in concessione dal demanio è un'area che è residuale a valle della realizzazione del teatro del teatro verdi a Pordenone e si trova sostanzialmente nell'area di pertinenza dell'albio del canale molino il canale molino è un canale che nel passato era aperto cielo aperto che adesso è interrato intombato e che sfocia nella roggia dei molini se passiamo alla slide successiva vediamo qual è la differenza sostanzialmente la parte rossa è l'area che viene ceduta a titolo gratuito dalla regione al comune che conta 39 metri quadri 60 e la parte gialla invece è l'area che viene assunta in concessione in quanto essendo esattamente sopra il canale non può essere ceduta come proprietà di titolo gratuito ma può essere concessa solo data in concessione sostanzialmente tutto va è una sistemazione definitiva di una situazione che è rimasta ferma dalla realizzazione del teatro sostanzialmente ovviamente il comune acquisisce entrambe una in concessione e l'altra a titolo gratuito quindi senza spese grazie assessore richieste di chiarimenti non ci sono richiesti di chiarimenti pertanto dichiaro aperta la discussione nessuno nessuno iscritto passo secondo intervento nessuno iscritto per il secondo intervento passiamo alle dichiarazioni di voto nessuno iscritto pertanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto comunico di dare avvio alle procedure di votazione per cortesia scusate signori consiglieri prendete posto e non interrompete durante l'operazione di voto che è il momento forse più importante pongo in votazione la deliberazione avente senza nulla togliere alla discussione ma voglio dire se si fa un errore qua dopo si paga pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto proposta numero 23 2014 acquisizione gratuita di una piccola porzione di area di proprietà della regione Friuli Venezia Giulia dichiaro dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 34 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 31 contrari nessuno astenuti 2 la delibera è stata approvata pongo ai voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte l'operazione di voto dichiaro dichiaro chiuso l'esito della votazione è il seguente presenti 34 votanti 33 maggioranza 21 favorevoli 31 contrari nessuno astenuti 2 l'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile bene adesso secondo il programma dei lavori dovremmo riprendere la discussione della mozione 12 2012 riforma delle circoscrizioni allora dica consigliere Giannelli dica date la parola Giannelli presidente ci aggiorno per piacere solo lo stavo facendo perdono mi perdono la situazione allora come ricorderete allora la mozione riguardante riforma delle circoscrizioni era stata presentata dal consigliere comunale Francesco Giannelli era stata aperta la discussione erano intervenuti i consiglieri del ben passoni de bortoli pedicini daniello bianchini ribetti dalmas salvador e piccin c'era c'era poi stata una dichiarazione del consigliere Giannelli presenti presenti 35 votanti votanti 24 contrari 20 favorevoli 13 astenuti 1 non votanti 1 pertanto veniva veniva respinta la mozione d'ordine e si proseguiva i lavori consigliere pedicini chiedeva con mozione d'ordine di sospendere i lavori davo parola il presidente dava parola al consigliere ribetti a favore e bianchini contrario posto in votazione veniva dava questo esito consiglieri presenti 35 votanti 34 contrari 20 favorevoli 14 non votanti 1 pertanto veniva respinta i lavori proseguivano davo la parola al consigliere Piccinato e Manzon il consigliere Piccinato presentava un emendamento alla mozione emendamento alla mozione numero 12 che voi avrete il consigliere Manzon comunicava la sua volta la presentazione di un altro emendamento a firma dei consiglieri Fausto Tomasello Manzon Rossetto Bonazza Perrone Bonato Martino Passoni e loro il presidente ha constatato che erano le 22.30 come stabilita la riunione conferenza di capi gruppo comunicava interrompere i lavori precisando che rimanevano iscritti per l'intervento i consiglieri Franchin Freschi e Rossetto Bene questa è la situazione pertanto come da regolamento questa discussione non è altro che una prosecuzione una discussione già aperta col presidente consiglio e pertanto i consiglieri iscritti sono Franchin che questa sera non c'è Freschi che è presente e il consigliere Rossetto Bene ovviamente possono iscriversi a parlare quelli che non hanno ancora parlato perché è pacifico sì 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 prego consigliere Freschi date la parola voglio dire vale la chiusura alle 22.30 al di là del domando sì 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 salvo che non siamo in dichiarazione di voto che allora a quel punto si arriverà al termine grazie prego consigliere potrebbe dare lettura degli ammendamenti credo che sia semplice perché non erano lunghi ricordo che erano abbastanza telegrafici sì un girocchio non è non è la mostra di là la mezza di là qui sono io mostra oi sì che non è questa non è 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 Grazie. Do lettura allora dell'emendamento alla mozione numero 12 del 2 marzo 2012 presentato dal Consigliere Riccardo Piccinato. Allora l'emendamento chiede che la proposta nella sua conclusione procedere alla soppressione, poi omissis legge, venga così emendata a procedere alla trasformazione delle circoscrizioni nel seguente modo a partire dalla naturale scadenza di mandato delle stesse. Due punti, che i componenti delle circoscrizioni diventino gli stessi consiglieri comunali a titolo gratuito mantenendo così lo stesso numero di consiglieri e delle circoscrizioni, tale che siano 10 consiglieri per circoscrizione senza possibilità di elargire contributi. Punto 2, che le sedi delle circoscrizioni, che oltre ai 16.000 euro di costo dei consiglieri, costituiscono un'ulteriore spesa per migliaia di euro ai cittadini, non debbano più gravare sui contribuenti, adottando sedi già pagate e utilizzate per altro, come la stessa Sala Rossa. Punto 3, che il risparmio generato venga o utilizzato per altro o detassato dai contribuenti. Il Consiglio Comunale Riccardo Piccinato. L'altro emendamento alla mozione numero 12, riforma delle circoscrizioni, i sottoscritti consiglieri del PD propongono di emendare la sua indicata mozione al seguente modo. Che le circoscrizioni non servono a nulla salvo a derogare soldi pubblici inutilmente. Sto leggendo, scusate, sto leggendo il testo integrale io, non è questo? Il testo ingrassetto è quello dell'emendamento che sostituisce quello non ingrassetto, Presidente. No, allora, sì, ho capito questo. Ma io sto leggendo quello che c'è scritto qua, ingrassetto o non ingrassetto, scusate. La situazione del Consiglio Comunale Riccardo Piccinato è quella impossibile. L'emendamento è proprio il passaggio. Sì, ho capito, ma scusate. Va bene, allora io salto dei passaggi, volete che salte dei passaggi, ma secondo me non è chiaro. Allora, cerco di integrare io qualcosa. Allora, i sottoscritti consiglieri del PD propongo di emendare la sua indicata mozione al seguente modo. Scusate, che le circoscrizioni non servono a nulla, salvo a derogare soldi pubblici utilmente, verrà sostituita con l'attuale strutturazione delle circoscrizioni e superata. L'inciso promossa dalle associazioni verrà sostituito in questo modo, sostituite da forme di organizzazione più appropriate dei cittadini. L'inciso 40.000 euro che potrebbero essere meglio spesi, verrà sostituito con 16.000 euro che potrebbero essere altrimenti spesi. Poi impegna il Sindaco e la Giunta di procedere a soppressione, questo è l'inciso della vecchia, verrà sostituito con questo inciso, di procedere al termine dell'esperienza delle circoscrizioni alla fine dell'attuale mandato amministrativo e a riprogettare forme di partecipazione, coinvolgimento, alternative, senza costi per l'amministrazione, che consentano al cittadino di prendere parte attiva al governo della città. Sottoscritto da, credo, tutti i componenti. Adesso le firme non... Bene, questi sono i due emendamenti. partecipazione, sbara, coinvolgimento, alternative, virgola, senza costi per l'amministrazione, virgola, che consentano al cittadino di prendere parte attiva al governo della città. Distribuiamo nuovamente gli emendamenti. Chi vuole possiamo... Stai distribuiti la scorsa volta. Ma credo che non vengano ripresentati i documenti. Una volta... Noi non possiamo... Probabilmente non è stato inserito. Bene, possiamo... Prego, consigliere Freschi. Grazie, grazie Presidente. E' un po' difficile intervenire su una mozione che inizia... della cui discussione è iniziata, penso, due mesi fa. Cos'era? Il 24 febbraio? Marzo? Non ricordo bene la data. Tra l'altro mi sono accorto che ho perso gli appunti che mi erano notato, degli interventi dei consiglieri... No, no, ma vado sempre a braccio soltanto agli appunti dei consiglieri che avevo riportato. Bene, è un argomento questo che a me va particolarmente stretto per una serie di cose. Primo, ho fatto il consigliere circoscrizionale per tre mandati, per cui penso di conoscere un po' il problema. Avevo i calzoncini corti, come si usa dire. Era un giovane studente universitario alle prime armi quando sono entrato in consiglio circoscrizionale. E devo dire che molta acqua è passata sotto i ponti e molte cose sono cambiate nel frattempo. Ho sempre ritenuto il lavoro dei consigli un'ottima palestra per coloro i quali si affacciavano per la prima volta alla vita amministrativa e politica della città. E ho sempre ritenuto che quel consenso fosse fatto da persone serie che lavoravano con spirito volontaristico e cercavano di mettere tutta la loro passione e il loro interesse per quanto riguardava le politiche del territorio in cui abitavano. Pertanto parlare... E mi dispiace che il consigliere Giannelli abbia usato termini molto duri in questa mozione. perché bisogna sempre tener conto che ci sono delle persone che mettono il loro impegno mettono la loro faccia mettono la loro dedizione nel portare avanti quelli che sono i problemi della comunità. E pertanto i termini inutili i termini soppressi sono per me termini che sono poco rispettosi di coloro i quali si trovano si sono trovati e si trovano in questo momento operare in tali consessi. Ma però come dicevo prima bisogna avere anche una visione realistica delle cose e capire che ci sono dei passaggi e dei momenti in cui bisogna anche fare dei ragionamenti un attimino più approfonditi soprattutto di fronte alla realtà in cui ci troviamo ci troviamo a vivere e ad amministrare. Pertanto mi pare corretto e abbastanza calzante l'emendamento che è stato presentato dai consiglieri primo firmatario Fausto Tomasello dove si fa in qualche modo incontro a quella che quello che può essere una una nuova visione e rivisitazione di tali consessi. Innanzitutto penso che sia giusto sottolineare il fatto che coloro i quali sono stati eletti sono dei legittimi rappresentanti della comunità e vanno fino a fine mandato. Nel frattempo ritengo opportuno che ci sia anche un ragionamento all'interno del Consiglio da qua alla fine del mandato magari che venga creato qualcuno parlava mi pare il consigliere Pedicini di convocare la commissione regolamento per discutere e vedere quali possono essere anche le nuove forme certamente dovremmo inventarci delle nuove forme partecipative perché i consiglieri di quartiere se pensate bene sono nati alla fine degli anni Ottanta nel momento in cui c'era una forte spinta partecipativa e assieme ai consigli di quartiere venivano avanti anche tutti quelli che erano le forme di rappresentanza nella pubblica istruzione pensiamo ai consigli delegati se non ricordo male così si chiamavano pensiamo a tutte quelle forme partecipative nelle quali si cercava di coinvolgere i cittadini alle scelte della loro comunità per cui come accennavo all'inizio molti passaggi sono stati fatti però bisogna stare attenti che nel momento in cui si fanno delle modifiche non bisogna buttare via tutto non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca ma bisogna solo tirare via le parti che in questo momento non hanno più senso di esistere quelli che sono i doppioni quelle che sono le ripetizioni lasciando alle diciamo a delle nuove forme associative che nascono nei quartieri la loro capacità di potersi in qualche modo esprimere su quelle che sono le istanze e su quelle che sono le necessità dei vari territori nel momento in cui cominciamo a parlare di una città dei centomila cerchiamo di metterci insieme per creare sinergia nei servizi nel momento in cui parliamo di superamento delle province è chiaro che anche questi piccoli organismi devono essere in qualche modo rivisti devo essere sincero io già a metà prima sbagliavo scusa era la fine degli anni settanta perché io che sono nati tutti i come si chiamano i decreti delegati era la metà degli anni settanta io ero la fine delle superiori iniziavo l'università per cui dal 74 al 75 ecco penso che ora come ora noi dovremo certamente mettere in campo qualcosa di nuovo e su questo qualcosa di nuovo mi permetterei di dare anche un suggerimento all'amministrazione perché non creiamo un semplice gruppo di lavoro nel quale ci siano consiglieri comunali e ci siano anche dei rappresentanti delle circostruzioni che venga anche da loro un suggerimento a superare questa forma partecipativa per andare incontro a una nuova forma partecipativa perché solo se c'è la partecipazione di tutti e non ci mettiamo gli uni contro gli altri perché io mi rendo conto che dalla parte di coloro i quali sono nei consigli di quartiere questa cosa è vista come un metterli da parte come un non prendere in considerazione quanto loro stanno facendo per cui io penso che le cose si superano nel momento in cui ci si mette insieme e correttamente con il rispetto delle parti si affrontano le situazioni era prima che stavamo osservando alcuni dati elettorali assieme al consigliere Pasut e ci rendevamo conto che c'erano dei comuni con 500 elettori ecco certamente ci rendiamo conto tutti che ormai queste forme debbono avere una nuova una nuova collocazione una nuova visione perché la frammentazione della pubblica amministrazione è uno dei motivi anche del non funzionamento del rallentamento delle procedure del fatto che in qualche modo non si riesce a essere flessibili e snelli allora di fronte a tutte queste cose è chiaro che dobbiamo metterci attorno a un tavolo ad operare e operare insieme con il rispetto di tutti per cui mi pare che questo emendamento che proponevano come dicevo prima i consiglieri sia un emendamento che abbia una sua ragione d'essere nel momento in cui inizia anche da qua a fine mandato un percorso di come si può dire di confronto che vada al superamento di ciò che attualmente c'è ma al superamento in una visione costruttiva in una visione di prospettiva in una visione di progettualità e non semplicemente nel dire cancello una cosa e non faccio più niente perché tutte le cose hanno avuto e hanno tuttora una loro ragione e una loro motivazione per cui io penso che nel rispetto delle parti dovremo in qualche modo elaborare delle soluzioni nuove ecco io posso dire una cosa che già una quindicina di anni fa sollevavo il problema che il momento in cui un organismo c'è esiste deve essergli dato la forza e la potestà di poter esprimere qualcosa nel momento in cui diventa semplicemente un luogo in cui si debbono in qualche modo ratificare delle decisioni senza poter in qualche modo incidere nelle decisioni che si vanno a prendere questo organismo rischia di diventare di implodere in se stesso ecco questo è un po' quello che è accaduto i consigli di quartiere o sono protagonisti in quello che fanno altrimenti diventano un momento che può essere anche per certi versi mortificante perché nel momento in cui avanzi delle istanze e queste istanze non hanno la canalizzazione giusta per essere portate a termine rischiano di essere un lavoro che in qualche modo diventa inutile allora io penso che innanzitutto punto primo rispetto per le persone che sono in questi organismi e che stanno lavorando con dedizione e passione qua molti di noi hanno fatto questi percorsi hanno fatto i consiglieri di quartiere hanno fatto i presidenti e sanno che è un compito nel quale ci si impegna ci si impegna seriamente per il bene dei nostri cittadini certamente come dicevo prima alcune cose possono essere cambiate allora io penso che nel rispetto di tutti queste cose se ci mettiamo attorno a un tavolo e insieme ragioniamo queste cose possono essere superate e possono essere anche un momento come lo è stato per tutta la fase propedeutica al PRG come è avvenuto a Palazzo Badini possono essere un momento anche di confronto di discussione dove ognuno di noi porta in qualche modo quella che è stata la sua esperienza porta in qualche modo quello che è il suo pensiero e cerca di andare a ordre in una visione che può essere nuova e partecipativa ma vista in una chiave completamente diversa con i requisiti che in qualche modo nella discussione che è avvenuta nel consiglio in cui abbiamo aperto questa mozione sono state riportate da più consiglieri ecco con questo principio noi andremo alla votazione dell'emendamento proposto e con la speranza che anche ci sia quella fase che suggerivo prima di un confronto diretto di un tavolo attorno al quale ci si trova e magari insieme si trovano delle soluzioni più appropriate grazie grazie consigliere consigliere Rossetto lei mi ha detto che ha ritirato e consigliere Pasut prego grazie presidente ma devo dire che nel termine soppressione è un po' forte in effetti e quindi neanch'io condivido che si possa passare alla soppressione di un organo che poi è frutto di elezioni e di consultazioni elettorali però a dire il vero non facevo parte delle circoscrizioni quando il consigliere Frecchia aveva i calzoncini corti ma un po' dopo e dai tempi ricordo che dai tempi e il sindaco Pasini che le circoscrizioni invocavano autonomia e anche come dire capacità decisionali che non hanno mai avuto a onore del vero però hanno in qualche maniera avvicinato le persone e sono state come dire quel modo di interloquire di portare la politica alle porte di casa per la risoluzione dei problemi però mi rendo conto che così come sono strutturate non funzionano più non hanno più ragione di essere e devo dire in contraddizione a quanto diceva il collega Freschi che non è che tutti i consiglieri partecipano con la dedizione citata da consigliere Freschi molte volte qualche circoscrizione si fa fatica a raggiungere il numero perché tocca chiamare la gente a casa io mi riferisco alla mia esperienza però riconosco a questi luoghi la capacità di interloquire con il problema concreto della gente non va non va non va dimenticata questa cosa qui qui in aula c'è con me un consigliere di circoscrizione che partecipava con me e mi può essere testimone di questo attivismo dove i problemi del quartiere venivano in qualche maniera veicolati perché arrivassero in questa sera però è vero che il mondo cambia e le cose che non potevamo fare prima probabilmente le possiamo fare adesso siamo costretti a farli e allora il mio intervento vuole anche dare in qualche maniera un'indicazione a questa amministrazione se vuole cogliere se vuole prendere suggerimento per questa opportunità di crisi come dire di questi luoghi di dibattito pubblico che sono le circoscrizioni quando ero assessore ho fatto il giro di tutte le circoscrizioni e ho portato in tutte le circoscrizioni la strumentazione informatica il minimo sindacale della strumentazione informatica vedo il consenso del vice sindaco che conferma quanto dico e non solo avevo fatto il giro di tutte le circoscrizioni per dire per l'utilizzo di un dispositivo che era un lettore di smart card attraverso il quale era possibile produrre dei semplici certificati anagrafici attraverso il nostro canale informatico in Siel con un programma dedicato allora si poteva produrre in carta semplice direttamente sul posto un certificato anagrafico di residenza eccetera che diversamente il cittadino doveva venire in anagrafe parcheggiare la macchina poteva farlo in sede di circoscrizione ciò non si è verificato perché naturalmente noi andiamo avanti coi tempi no ci accorgiamo dopo che avremmo potuto farlo ma le cose succedono anche quando noi non immaginiamo che possano succedere e credo sia il momento questo perché come citava a me fa piacere che il discorso di Electrums di Idea Standard vada avanti ma i problemi resteranno grossi e importanti e non dico non parlo delle aziende parlo del personale della pubblica amministrazione non avremo più la provincia i dipendenti non li possiamo mandare a casa abbiamo molti dipendenti qui che con il calo di lavoro evidentemente dovremmo impiegare allora dico proviamo a immaginare invece di cancellare questi luoghi di interlocuzione col cittadino di trasformarli come luoghi di prossimità per il cittadino e allora l'impiego di personale che qui magari è in eccesso può essere delocalizzato può essere decentrato in quelle sedi e rendere in qualche maniera vicina alla cittadinanza l'amministrazione comunale non per stravolgere il ruolo di queste rappresentanti ma per essere più vicini allora questa è una roba come dire che mi viene in mente adesso ma che sicuramente si potrà studiare prima di passare alla cancellazione anche perché non credo possiamo cancellarle se non alla fine della tornata della tornata naturalmente perché sono organi esatto sono organi eletti e quindi non si possono però io dico amministrazione provate a pensare se ci sono i margini per creare anche una come dire una vicinanza con la città con il cittadino in questi termini utilizzando quei luoghi che sono state le sedi delle circoscrizioni io credo che qualcosa si possa fare io non sono non posso accettare che questa cosa venga cancellata così come se niente fosse però mi rendo conto che così come sono strutturate le circoscrizioni servono a poco non dico a niente ma servono a poco però riconosco che molte volte la voce del cittadino è passata attraverso la circoscrizione ed è arrivata in consiglio comunale in aula e qualche problema si è risolto ho finito grazie consigliere consigliere loro prego grazie grazie presidente leggendomi la mozione presentata dal collega Giannelli ho visto che la parola che più si ripeteva e che aveva maggior risalto e che interessa anche moltissimo l'opinione pubblica riguarda i costi della politica allora io ho preso lo spunto e ho fatto una ricerca su come affrontare questo tipo di problema che nel momento attuale è molto sentito dai cittadini all'interno della nostra società io ho trovato un rapporto di un sindacato il rapporto della Will che non è un sindacato particolarmente estremista diciamo così non sono i Cobas in cui praticamente fanno un elenco è datato dicembre 2013 in cui praticamente affrontano a fare un'analisi molto lucida e dettagliata che vi invito a trovare in internet e a leggere che affrontano in maniera secondo me molto obiettiva quelli che sono i principali ostacoli che vengono appunto che sono insiti nel nostro ordinamento e che se venissero eliminati contribuerebbero moltissimo ad abbattere i costi appunto della politica e facendovi senza andare troppo nello specifico vi comunico quello che è il messaggio di questo rapporto il messaggio è che gli sprechi tutti gli sprechi di cui veniamo a conoscenza non avvengono mai e non riguardano mai il livello più vicino al cittadino ed è qua che mi collego le circoscrizioni cioè se si vuole affrontare il problema di costa della politica secondo me non bisogna partire dal livello più basso ma bisogna andare su altri livelli insomma quindi potrei fa un esempio fa molti esempi parla delle società partecipate consulenze e quindi dice o andiamo a incidere su questo tipo di costi altrimenti facciamo degli slogan ecco e questo secondo me il consigliere Giandelli non me ne voglia ma è un po' il contenuto della mozione che ha presentato uno slogan che va a alimentare il populismo e l'antipolitica riguardando le circoscrizioni per quello che riguarda il loro assetto attuale io ricordo che insomma sono state legittimate da una legge regionale del 2010 che è stata approvata dal PD Udc e Pdl appunto nell'anno in quell'anno e che gli atti che producono sono degli atti pubblici e soprattutto sono elette con suffragio universale diretto quindi massima forma di democrazia inoltre come anche ricordato il consigliere il collega Pasut hanno un radicamento territoriale e molto spesso hanno diciamo così questa funzione di trovare un punto di ascolto e di dialogo con i cittadini inoltre parlare secondo me questa è la mia opinione parlare di cancellazione come viene fatto nella mozione contrasta con quello che è un principio del nostro ordinamento che è quello del decentramento amministrativo questo è il dato puramente tecnico io poi do un mio contributo politico che è quello di dire che le circoscrizioni servono anche per la formazione delle future amministrazioni e della qualità delle stesse infatti l'attuale presidente di regione la Seracchiani sappiamo che ha iniziato il suo percorso politico proprio all'interno delle circoscrizioni quindi non credo che sia un esempio da archiviare o comunque da buttare via come della mozione viene fatto insomma io non so dove è arrivato comunque no 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 era una divagazione anche simpatica insomma e riguardo appunto tornando all'assetto attuale degli organi sappiamo insomma che gli eletti percepiscono dei compensi che hanno un'entità poco più che simbolica e quindi non si parla di 40.000 euro ma di una cifra inferiore insomma mi sembra intorno ai 15.000 e inoltre le attività delle stesse l'attività amministrativa si svolge senza una struttura specifica di supporto quindi anche l'impegno all'interno della stessa amministrazione comunale a mio avviso insomma non è quantificato nella maniera in cui viene presentata all'interno della mozione comunque ad ogni modo io percepisco che ci sono comunque delle difficoltà che i tempi cambiano insomma che un organismo come insomma tutti gli organismi ha necessità di divenire e di evolversi per cui ben vengano le riforme che puntino a migliorare la funzionalità di un organo però senza che questo venga cancellato ma che questo venga potenziato cioè che venga uso un termine diciamo così preso insomma così da un contesto aziendalistico ma che venga aumentata la sua produttività perché il problema guardate non è il costo di una struttura il problema è quello che la struttura produce e io credo che tutti noi se un ente su un organo dà dei risultati io non penso che ci sia nessuno che dica no togliamo diciamo così finanziamenti a questo tipo di struttura perché non ci piace no quando ci sono i risultati io credo che i cittadini siano siano contenti e abbiano insomma loro esprimano poi loro grammi di vento nei confronti degli amministratori che si impegnano sul territorio pertanto ben venga una riforma di questi organi ma una riforma verso dove quali sono i traguardi che questa riforma deve avere una riforma che a mio avviso metta come al primo punto ad esempio sicuramente l'elettività di questo tipo di organo perché come ho detto prima il suffragio universale diretto è la forma più alta che caratterizza la partecipazione democratica nel nostro paese e nelle moderne democrazie poi si possono anche inserire dei correttivi come ad esempio dei limiti alle sedute queste sono proposte che io porto dopo che ho visto anche nel resto della realtà nazionale insomma come anche ci si è mossi e quindi ripeto l'importante è che quando si va a riformare un organo venga messo nelle condizioni di funzionare e come si fa a far funzionare un organo fornendo allo stesso degli strumenti quindi dando una capacità decisionale e non solo consultiva una capacità propositiva non solo di ratifica ma di intervento e anche di segnalazione nelle proposte che abbiamo ascoltato anche all'interno di quest'aula e un altro punto personale poi concludo è quello che noi siamo maggioranza noi abbiamo secondo me abbiamo l'onere di fare abbiamo il dovere di fare non abbiamo necessità di presentare emendamenti che pur sono lodevoli insomma perché comunque cercano di dare una direzione però secondo me noi abbiamo questa responsabilità e quindi mi ricordo anche quando il sindaco perché avevo partecipato ha incontrato il consigliere di circoscrizione ha dato una prospettiva insomma a questo tipo di organi insomma comunque di cambiamento no sicuramente di cambiamento e non è che dico che dobbiamo rimanere nello status quo assolutamente però appunto è cercare appunto di fare un'attività di riforma che vada appunto a migliorare l'attuale setto senza però archiviare l'esperienza delle stesse grazie consigliere loro nessun altro iscritto dichiaro pertanto chiusa Giannelli scusi consigliere Giannelli mi faccia vedere una cosa no lei allora lei avrebbe la possibilità di intervenire due volte nell'ambito di 15 minuti perché lei ha presentato la mozione e poi è previto io non ricordo però quanto lei è intervenuto la prima volta non so per quanto tempo lei è intervenuto con l'illustrazione no no ecco avesse stato più credibile no io direi credo di ricordare che fossero intorno ai 10 minuti facciamo 5 minuti e completiamo i 15 5 minuti 5 sono stati in Marocco che sai perché prego la trattativa adesso che non l'ho attaccata sotto il banco ecco no no ci tengo a intervenire intanto voglio precisare voglio precisare che il fatto che le circoscrizioni fossero o venissero soppresse era da sé a fine mandato cioè lo davo come un elemento scontato non è che poi prendi tutti a casa quindi su questo sgombano subito il campo va da sé mi sono preso attentamente sono stato attento studio al posto di fare il discolo allora freschi sai cosa vuol dire inutili quando io dico che ti sei arrabbiato non servono a nulla vuol dire che sono inutili quando una circoscrizione o qualsiasi diciamo organizzazione chiamiamola così non serve a niente viene disattesa non ha pareri vincolanti spende soldi per niente vuol dire che è inutile perché se fosse utile io sfido andare a prendere i pareri delle circoscrizioni che nella storia della nostra assemblea abbiano determinato qualcosa torno a dire no io non ho interrotto perché non ho più voce se avessi voce ti avrei liberato io conosco bene le circoscrizioni perché ho avuto la fortuna di avere un fratello minore che si è cimentato però non credo che sia la palestra la palestra non sono le circoscrizioni loro la palestra e la vita politica che viene a fare in consiglio comunale perché la nostra cittadina anzi il nostro paese ha una dimensione tale per cui i cittadini così come telefonano a me e mi chiedono fai allora ogni tanto io faccio qualche cosina per la mia però voi avete visto che un minimo di attività ce l'ho ce l'ho perché i cittadini ti riconoscono e vengono a chiedere i cittadini vengono dagli assessori vengono da 40 persone che in una città di 50.000 abitanti sono più che punto di ascolto e dialogo caro loro sono molto di più che punto di ascolto e dialogo se no che senso abbiamo noi un assessore io fossi un assessore ai lavori pubblici o alle manutenzioni prenderei 3-4 miei amici disponibili gratis e tamore dei e gli direi andate in giro per la città informatemi tu sei di questo quartiere tu prenderei un cittadino un amico qualsiasi di un quartiere e gli direi ogni settimana vengono a vedere cosa succede ma questo lo possono fare gli assessori ma noi stessi consiglieri ditemi quante volte per strada non vi fermano e vi dicono oh ticket 5 mu ok no no forma partecipativa freschi sempre a te forma partecipativa è la classica frase di sinistra che non vuol dire un cavolo di niente perché la prima più importante e basiare in forma partecipativa è il municipio il comune se noi alteriamo la nostra capacità siamo una cittadina di 40 50 mila abitanti 40 di noi in più delle volte dormiamo in quest'alla perché se cade una sedia sono tutti che si svegliano lo stesso ma non è possibile allora siccome mi toliono una parola tra brevi posut soppressione è un termine forte invece posso accettare che non hanno più ragione di sussistere soppressione no non aver più ragione di essere sì questa è la classica terminologia che è politica anzi è partitica perché sapete bene che i quartieri sono un contenitore di voti di consenso e avete chi non accoglierà la mia mozione ha paura di supprimerli signori non fatemi usare il diafron ma se no alzo la voce ecco allora signori l'Italia è qui cerco di essere cioè veramente di mutuare questo ragionamento con il ragionamento lì ma sapete perché Renzi ha vinto il mio particolarissimo piacere pensiero ha vinto sì no piacere perché comunque io non l'ho votato ovviamente però davanti a gente che non ha fatto niente per vent'anni questo che lasciamo lavorare per un paio d'anni cioè subito addosso tutti non ha fatto niente cazzo non ho capito sono vent'anni che ci hanno mandato in malora a Roma arriva uno che comincia a fare qualcosina allora pregherei ai miei amici di Forza Italia di capirmi ma io intendo dire che il buon senso è quello di far lavorare le persone noi consiglieri comunali dobbiamo lavorare voglio mutuare questo ragionamento con l'Italia signori noi siamo ammalati di assemblearismo l'assemblearismo vuol dire apparato l'apparato vuol dire burocrazia la burocrazia vuol dire lentezza di azione che vuol dire corruzione che vuol dire o retratezza nei paesi moderni io non dico che ci siano delle dittature a termine ma non esiste l'assemblearismo noi abbiamo una situazione dove dall'assemblea di condominio l'audiata assemblea di condominio che cazzo che sfiga ho perso il filo dai non ho affatto perso il filo dall'assemblea di condominio al parlamento questa nazione è ammalata di assemblearismo il quartiere è il primo esempio di un'assemblea che non conta niente allora mi capirà anche l'amico cabibo io non voglio dire che la gente che lì non abbia lavorato non abbia fatto non sia gente votata dico solo che noi consiglieri comunali il consiglio è il primo livello il primo filtro tra quello che vuole la gente e quello che bisogna fare e vanno dal quartiere vuol dire che noi non esistiamo bene grazie per sette minuti non e consigliere del santo prego sono ancora in tempo sì presidente quanti minuti mi dà due minuti chiudiamo alle 22 e 30 o posso finire il mio intervento no 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 chiudiamo no 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 allora io parto dalle ultime espressioni usate dal collega Giannelli Francesco se ti siedi e mi ascolti perché non puoi andare via però sono più bello allora voglio dire io sulla questione dell'assemblearismo i partiti del padre padrone non mi piacciono e per questo non farò mai parte del tuo francamente io c'ero caro Roberto e posso confermare no no io sono un pre renziano quindi vabbè comunque scusate le battute io c'ero correva l'anno 1974 quando furono votati per la prima volta i consigli di quartiere anzi i comitati di quartiere 1974 è stata la mia prima ed unica esperienza di carattere politico pseudotale prima di sedermi in questo in questo consenso però mi permetto di fare una considerazione allora all'epoca eravamo dei casinisti movimentisti e sono convinto che abbiamo portato a proposito erano ben 14 in Pordenone per chi non conosce questa storia io sono vecchietto forse sono il più vecchio qui dentro no uno e due non buttiamoci troppo a terra comunque ho fatto io parliamo di 40 anni fa allora vorrei soltanto sottoporvi alla vostra attenzione a chi sostiene caro Giannelli potevo anche essere molto vicino e all'interno del nostro abbiamo avuto un lungo dibattito come tra l'altro è apparso sulla stampa abbiamo fatto i nostri casini e le nostre confusioni e le nostre divisioni però ciò nonostante siamo arrivati a una mediazione che è sposo in pieno però francamente io dalla tua posizione ero molto vicino perché così come stanno le cose oggi non servono a nulla posso concordare da questo punto di vista ciò non toglie che le espressioni e le modalità utilizzate forse qualche virgola si poteva essere modificata spostata però volevo arrivare ad una considerazione che secondo me mi ispira in questa situazione 40 anni ma cosa sono successi in questi 40 anni viva Dio il partito democratico che oggi ha preso il 41% esiste da sei anni no febbraio 2008 allora scusatemi stiamo parlando di un fenomeno nato 40 anni fa in Pordenone e vogliamo continuare a sostenere come se nulla fosse cambiato nel frattempo voglio dire il partito più anziano più sono andati via mi spiace i signori della Lega è la Lega è la Lega ma non perché la Lega è nata 20 anni fa gli altri sono spariti tutti tre volte quattro volte cinque volte se parliamo forza Italia PDL non PDL adesso sotto voglio dire senza parlare non voglio parlare di casa vostra possiamo starci in casa nostra tranquillamente 40 anni un ciclo di vita un ciclo di vita economico di 40 anni oggi non viene preso in considerazione da nessuno non esiste che oggi un'azienda progetti una lavatrice che deve restare sul mercato per 40 anni viva Dio e non capisco perché un organo di questo genere dopo 40 anni non si possa sostanzialmente modificare io voglio dire sono promotore di una mozione che non varrà mai mi spiace mai discussa in quest'aula sono stato fautore e promotore finché poi sono riuscito a convincere una parte importante dei miei colleghi della riduzione del numero dei consiglieri comunali vorrei che il sindaco si facesse carico nei confronti della regione visto che questa è una legge regionale per portare avanti un'istanza perché c'è ragazzi 40 consiglieri comunali in una città di 49.000 abitanti 50.000 abitanti chiedo scusa Brescia quanti migliaia di abitanti fa? e c'è qualcuno che lo sa? 240.000 abitanti sapete quanti consiglieri ha? e non è mica in uno stato non è in Afghanistan è in Italia 24 consiglieri comunali allora non ho capito a Brescia in città di 240.000 abitanti i 24 consiglieri comunali sono sufficienti a Pordenone non bastano i 40 consiglieri comunali abbiamo bisogno di altri 40 consiglieri circoscrizionali voglio dire che Giannelli a tutte le ragioni del mondo o modifichiamo questa norma oppure ci sarà qualcuno che ci asfalta io sono un renziano anti-renzi per cui allora prima che nascesse di sicuro e beh caro mio mi devi sopportare per fortuna tua o per fortuna non mi devi sopportare io fai a me non c'è mica nessun problema il come vedi caro Gianelli c'è una dialettica allora concludo ho sposato in pieno la mozione ritengo che ci possa o ci debbano essere delle modalità rappresentative o comunque che colgano le esigenze anche in termini locali più più distribuiti all'interno della città non credo che ciò sia necessariamente ma non voglio anticipare decisioni che saranno di altri probabilmente necessariamente l'esito di un organo votato ma potrebbe essere un organo che ha un altro tipo di rappresentanza o di rappresentatività concludo dicendo che ovviamente per quanto mi riguarda sono assolutamente d'accordo con la mozione presentata dal nostro gruppo e scusate dell'emendamento presentato dal nostro gruppo e che quindi se andremo alla votazione di tale emendamento questa sera io personalmente voterò a favore grazie concedere Cabibbo prego scusi è presidente ma abbiamo detto che avremmo chiuso alle 10 e mezza sono le 22 e 33 quindi io chiederei di rispettare questa anche perché poi ci sarebbero i secondi il secondo intervento eccetera no beh così è che abbiamo lei deve fare un intervento o deve solamente dire che dobbiamo chiudere non ho capito no io l'intervento mi sono prenotato ma desidero farlo con la calma che è giusto che io abbia a disposizione e siccome abbiamo detto che avremmo chiuso alle 10 e mezza chiedo che venga dichiarata la chiusura di questa seduta e rinviata la discussione alla prossima seduta del consiglio e visto che abbiamo parlato di sentenze questa sera mi avvalgo della facoltà di non rispondere no nel senso di no come battuta mi avvalgo della facoltà di non parlare e di parlare la prossima volta c'è lei si è scritto va bene bene chiudiamo per tanto i lavori riviamo scusate scusate non è terminato il consiglio non ho ancora chiuso i lavori prego consigliere allora mozione d'ordine chiudiamo questa cosa che è andata anche oltre insomma sono 5 minuti oltre la vendita 35 credo che il consiglio Gabibbo fa 10 15 quanti minuti vuole del discorso chiudiamo votiamo se non è cash torniamo un'altra volta ragazzi c'è va bene tutto grazie beh allora visto se è una mozione d'ordine devo chiedere che ci sia un intervento a favore o un intervento contro e dopo dovrà decidere il consiglio un intervento contrario prego consigliere Gabibbo allora qui ogni volta alla fine delle sedute del consiglio comunale dobbiamo assistere a queste scene impietose allora abbiamo detto che i lavori si sarebbero chiusi alle 10 e mezza sì o no presidente allora chiudiamoli alle 10 e mezza non è possibile che ogni volta con un escamotaggio o con una richiesta dell'ultimo minuto si cambiano le carte in tavola diversi consiglieri sono andati via convinti che la discussione si sarebbe chiusa alle 10 e mezza qualcun altro potrebbe intervenire quindi mi pare che questa proposta del consigliere Bianchini non sia assolutamente praticabile anche per una questione di correttezza di rispetto del regolamento del consiglio comunale e di quella commissione dei capigruppo di quella conferenza dei capigruppo quella sì che andrebbe abolita visto che non serve a niente e che costa molto più delle circoscrizioni bene allora dal momento che c'è io allora scusate invito invito scusate scusate io invito scusate signori consiglieri io invito i capigruppo a rispettare le decisioni della commissione capigruppo però è anche vero che a fronte di una mozione d'ordine il presidente non ha potere di impedire al consiglio di deliberare pertanto io invito al rispetto di ciò che è stato deliberato in commissione capigruppo adesso se volete se comunque volete mettere ai voti io non posso impedirvelo ritirate la mozione mettiamo 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 ai voti la mozione allora la mozione la mozione d'ordine al è stata presentata la mozione d'ordine con la quale si chiede che i lavori del consiglio proseguano fino scusi scusi consigliere Bianchini fino a chiusura della discussione della deliberazione in merito a questa mozione ho capito bene vabbè chiedo di mettere di di chiaro aperte le operazioni di voto in merito alla mozione presentata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto esce la votazione seguente presenti 21 votanti 21 maggioranza 11 favori 19 contrari 1 astenuti 1 la mozione viene approvata pertanto proseguiamo i lavori prego consigliere cabibo non interviene non vedo altri altri iscritti pertanto dichiaro chiusa la discussione adesso dobbiamo mettere prego non preoccupate il numero regale c'è il segretario allora bisogna mettere scusate scusate vediamo i terminati i lavori dobbiamo mettere in votazione prima gli emendamenti e poi la mozione gli emendamenti mettiamo in votazione prima l'emendamento numero 1 che è quello presentato dal gruppo del PD che aveva che è stato protocollato come numero 1 pertanto dichiaro no scusate no no scusate 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 ci sono le dichiarazioni di voto no no tu l'hai ritirata la mozione no si ma appunto anche bene dichiaro aperte le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sulla mozione nessuno è scritto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto passiamo alle votazioni pongo in votazione l'emendamento numero 1 24 febbraio 2014 emendamento alla mozione numero scusate dovete alla mozione numero 12 depositata il 2 marzo 2012 presentata dai consiglieri del pd dichiaro aperte le votazioni emendamento emendamento questo dichiaro chiuse le votazioni l'esito della votazione seguente presenti 21 votanti 21 maggioranza 11 favorevoli 21 contrario nessuno astenuti nessuno l'emendamento viene approvato pongo ora ai voti l'emendamento alla mozione numero 12 del 2 marzo 2012 numero 2 presentato dal consigliere comunale riccardo piccinato dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito della votazione è il seguente presenti 21 votanti 21 maggioranza 11 favorevoli 1 contrari 20 astenuti nessuno l'emendamento viene respinto pongo ora in votazione la mozione numero numero 12 2012 riforma delle circoscrizioni così come emendata dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso le operazioni di voto l'esito la votazione è il seguente presenti 21 votanti 21 maggioranza 11 favorevoli 21 contrari nessuno astenuti nessuno la mozione viene approvata bene signori dichiaro chiusi i lavori del consiglio il consiglio verrà riconvocato a domicilio buonanotte a tutti grazie grazie a tutti